Cosa succede? Cosa succede in città? Guarda lì, guardala, che male tu canti! Buongiorno, buongiorno e buon venerdì. Mancano 35 giorni al voto per le elezioni europee ed effettivamente si entra nel vivo di questa campagna elettorale che vi racconteremo. Oggi abbiamo deciso di seguire due storie, quella di Matteo Salvini che si trova a Fossano in Piemonte e lì c'è per noi Isabella Ciotti che sta seguendo la campagna elettorale di Matteo Salvini che prevede una serie di appuntamenti nei mercati e non solo, cercheremo di intercettarlo e di capire anche qual è l'umore della base della Lega, degli elettori della Lega rispetto alle scelte fatte negli ultimi giorni. E poi Ludovica Ciriello invece si trova a Lecce a seguire la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. Ciao Ludovica, buongiorno e avremo nel corso della diretta Giuseppe Conte. Partiremo da qui ma non solo perché oggi siamo andati a spulciare i nomi dei candidati delle varie liste in corsa per Bruxelles e abbiamo scoperto anche delle cose piuttosto interessanti, mettiamo le foto notizie alle mie spalle. Da una parte ci sono i leader, i leader che lo hanno detto, ci candidiamo ma non andremo a Bruxelles, lo facciamo per tirare sulla lista, lo facciamo come elemento di testimonianza. Fatto sta che molti di loro chiederanno il voto, il voto di preferenza, però non andranno a Bruxelles. Ed è un po' un caso unico in Europa, come vi racconteremo. E li abbiamo visti, c'è Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, Elish Line, Carlo Calenda che alla fine ha deciso anche lui di candidarsi e il Presidente di Forza Italia, il Ministro degli Esteri Tagliani. Dall'altra siamo andati a vedere anche che cosa accade nelle liste, quali sono state le scelte di alcuni partiti perché ci siamo detti che il momento è piuttosto importante, c'è un'Europa da cambiare, tutti a parole vogliono cambiare l'Europa e quindi ci siamo detti che i partiti avranno deciso di mandare a Bruxelles e a Strasburgo il meglio, il fiorfiore della nostra classe dirigente. Magari è così, ma ci sono alcune scelte che sono molto curiose. Ad esempio, ve ne cito soltanto alcuni, in alto da sinistra c'è un esponente di Fratelli d'Italia che si chiama Fiocchi, che è un amante delle armi, al suo fianco c'è un altro protagonista della campagna elettorale che è Berlato, che peraltro è un deputato uscente di Fratelli d'Italia che viene ricandidato. Veneto ha avuto nel suo passato delle posizioni Novax molto molto dure, c'è poi il generale Vannacci come sappiamo e la candidatura della Salis. Abbiamo scelto alcuni nomi, ma in realtà ce ne sono molti molti altri ed è questo che vorremmo capire. Cioè la classe dirigente che noi stiamo mandando in Europa in un momento in cui ci sono due guerre, il conflitto tra Israele e i fondamentalisti di Hamas, dall'altra parte c'è la guerra in Ucraina e tutto quello che sta accadendo su quel fronte e un'Europa da cambiare. Buongiorno a Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, bentornato, autore peraltro del libro Mediterraneo Conteso di Marizzoli, buongiorno, libro che verrà presentato al Salone del Libro di Torino la settimana prossima. Molinari, io voglio proprio partire da qui, cioè dallo scenario internazionale, da un'Europa da cambiare e dalle liste che sono state presentate. Che fotografia, che giudizio possiamo dare, secondo te, dal tuo punto di vista della classe dirigente che manderemo in Europa? Partiamo da qua. Le parole che ha usato Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, pochi giorni fa, indicando la presenza di alleati di Mosca, detto proxy di Mosca, cioè alleati di Mosca fra i partiti che si candidano a queste elezioni europee, ci dà l'idea della gravità e della serietà della situazione alla quale noi stiamo andando incontro. Noi abbiamo un'Europa alle prese con l'aggressione dell'Ucraina, che ha dato luce verde a un negoziato che può portare all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Abbiamo la guerra alle nostre porte nell'Europa dell'Est, abbiamo un paese come la Polonia che teme di essere aggredito e nonostante questo ci sono partiti, in genere sono sempre partiti estremi, indipendentemente dal colore, che sostengono le posizioni della Russia e abbiamo visto nella giornata di ieri quanto questo è vero, quando Macron con grande coraggio ha detto se dovesse cadere l'Ucraina la Francia è pronta a mandare dei soldati e fra i primi a prendere la parola e a dire noi non lo faremo, c'è stato Matteo Salvini, il leader della Lega. Dunque c'è una gigantesca questione russa in Europa che si sovrappone alla guerra in Ucraina e sullo sfondo anche alla guerra in Medio Oriente, semplicemente perché Putin sostiene Hamas e quindi alla necessità di riforme per rendere l'Europa più integrata, più coesa, soprattutto su temi come l'economia e la politica di difesa. Ora di fronte a tutto questo l'Italia si presenta con dei leader che promettono di guidare le liste, si impegnano ma assicurano che in Europa non ci andranno e non solo, ma non affrontano almeno fino a questo momento in gran parte di loro i temi della coesione europea, ma parlano di altre questioni e poi abbiamo un'altra schiera di candidati che con tutto il rispetto hanno una preparazione sui temi delle riforme europee, non all'altezza del compito che abbiamo tutti noi davanti. Quindi è un momento molto difficile per l'Europa e quindi anche per noi cittadini europei di fronte al quale la classe politica italiana avrebbe potuto, diciamolo con grande franchezza, fare di meglio. E infatti è esattamente questo il nostro ragionamento, cioè partire dai dati di fatto, partire dai nomi e capire se questa classe dirigente è pronta ad affrontare le sfide che avremo di fronte. Ma la domanda che ti voglio fare parte da quello che ha detto pochi giorni fa Romano Prodi. Romano Prodi ha sferzato destra, sinistra, ma tutti i leader di partito. Sentite che cosa ha detto sulle scelte dei leader di candidarsi ma di non andare a Bruxelles. Sul tema delle candidature false all'europea lei l'ha persa con Agislein? Distinguiamo le due cose, il nome, ma non mi scandalizza affatto, è un gioco di marketing. E invece la candidatura per non essere poi, per non ricoprire il ruolo per cui si viene eletti, questo è un fatto immorale, io lo considero così. Poi sarò vecchio stile, ma questa è la mia convinzione. Allora, tra poco vedremo anche degli aggiornamenti di quello che sta accadendo a livello internazionale, c'è un flash del Guardian e tra poco lo vedremo e lo commenteremo con il direttore Molinari. Ma perché secondo te, visto che l'Europa è importante, è centrale, lo dicono tutti nel racconto dei leader politici, un leader politico non può fare il leader da Bruxelles? Cioè perché, visto che l'Europa è centrale ed è importante, non si può essere leader nel Parlamento che forse più di tutto influenza la nostra politica, cioè quello di Bruxelles? Perché il nostro Paese fa in me eccezione per la sovrapposizione fra politica interna e politica estera e soprattutto politica europea. Non lo abbiamo visto l'altro giorno quando si è trattato di votare all'Europarlamento sul nuovo patto di stabilità. Praticamente la stragrande maggioranza, tutti tranne quattro degli eurodeputati europei si sono astenuti oppure hanno votato contro. Questo è il punto. Mentre tutti gli altri hanno votato ovviamente a favore del nuovo patto di stabilità. Perché questo è avvenuto? Perché gli nostri eurodeputati di fronte a un momento importante di coesione europea hanno pensato all'elettorato italiano. Ora, questo è un vulnus profondo. È giusto rappresentare le istanze del proprio Paese in Europa. Altra cosa è invece impedire all'Europa di agire sulla base di interessi nazionali. E questo credo che sia il vulnus del nostro Paese che viene da lontano ma che, ahimè, continuiamo a portarci con noi. Vi faccio vedere anche un altro candidato all'Europarlamento. È un deputato uscente di Fratelli d'Italia. avviene dal Veneto. Si chiama Berlato. Sentite che cosa ha detto sui vaccini e sul ruolo dell'Europa sui vaccini. Sentiamo. Ci hanno preso in giro. Ci hanno anche detto che chi non si vaccina muore. Ma io ho scelto consapevolmente, dopo essermi informato, ho scelto consapevolmente di non farmi inoculare queste sostanze geniche sperimentali. Hanno usato tutti i mezzi di costrizione per fare in modo da obbligare le persone, arrivando addirittura, ad impedirci di andare a lavorare perché non avevamo accettato il ricatto vaccinale. Fino alle scelte criminali, tipo quelle che hanno impedito ai medici di rispettare il giuramento ad Ippocrate? Allora, Berlato sarà ricandidato con Fratelli d'Italia per il seggio di Bruxelles. Tutto normale, Morinari, secondo te? Io credo sia molto grave, non solo perché le scelte dell'Europa di essere coesa di fronte al Covid hanno protetto tutti noi. Ricordiamoci che l'Europa ha difeso meglio i propri cittadini rispetto agli Stati Uniti, ad esempio, o al Canada o all'Australia, proprio grazie alla coesione e al coordinamento fra tutti i paesi dell'Unione. È vero che c'è stato ritardo iniziale quando arrivò la prima ondata ed è vero che l'Italia pagò un prezzo molto alto a quel ritardo, ma poi la reazione è stata una reazione che ha protetto tutti noi, ha consentito a ogni cittadino europeo di avere i vaccini al momento giusto. Ci siamo salvati da questo pericolo senza precedenti, un nemico invisibile che entrava nelle nostre vite e nelle nostre case. Negare quanto è avvenuto, opporsi alla scienza e alla difesa della salute dei cittadini sulla base di informazioni non corroborate, significa farsi strumento di una propaganda che, ripeto, sono attori russi e cinesi che hanno iniziato in quel momento. L'offensiva contro le nostre democrazie è iniziata nella parte più dura e massiccia durante il Covid, perché questi attori dicevano che il Covid era colpa dell'Europa per allontanare le responsabilità dal Paese da cui il Covid era arrivato. Quindi attenzione, noi siamo di fronte a un attacco ibrido contro le nostre democrazie e dobbiamo fare molta attenzione a non farci strumento di questo attacco. E noi continueremo da qui ai prossimi 35 giorni che ci separano dal voto a raccontarvi anche quali sono i profili dei candidati. Prima di salutarti, visto che la tua prima passione e conoscenza è anche molto legata agli esteri, dobbiamo commentare insieme questa notizia appena data dal Guardian, guerra russo-Ucraina. La Russia è attaccata in una base americana in Niger. Quella è una zona del conflitto, tu lo hai raccontato anche nel tuo libro che verrà presentato al Salone del Libro nei prossimi giorni, il Mediterraneo Conteso, che però il Mediterraneo è il centro di una grande contesa, ma poi in giro per il mondo ci sono una serie di conflitti che consideriamo erroneamente periferici, ma che in realtà dove avviene l'altra grande partita, dove le zone di influenza della Cina, della Russia e delle altre dittature è molto forte. Che cosa ci racconta la vicenda del Niger? È una situazione senza precedenti dal 1945. Il fatto che i soldati russi entrino dentro una base militare americana, con i soldati ancora dentro e con tutto l'armamento americano dentro, e questo è avvenuto grazie alla decisione del Paese sovrano su quel territorio, nel caso specifico il Niger, ci dà l'idea del rischio di cortocircuito fra Russia e Stati Uniti di fronte al quale noi siamo. Perché il Niger lo sta facendo? Perché il Niger era guidato fino a pochi mesi fa da un governo filo occidentale, filo europeo, c'è stato un colpo di Stato, il Presidente è stato rovesciato, la giunta golpista ha annullato tutti gli accordi con gli Stati Uniti e l'Unione Europea, compresi quelli sul controllo dei migranti e ha siglato un patto di sicurezza con la Russia. Perché i russi entrano dentro questa base? Perché è una base nel nord del Niger dalla quale gli Stati Uniti negli ultimi anni hanno monitorato tutto il Sahel e il Nord Africa, dando la caccia ai gruppi jihadisti. Quindi la realtà vera è che senza quella base il Pentagono, gli occidentali e la Nato sono senza occhi nella guerra contro i jihadisti nel Nord Africa. È un fatto gravissimo che può segnare non solamente la giornata di oggi ma le prossime settimane e che ci dà l'idea dei rischi di sicurezza drammatici che incombono sull'Europa intera. Tu hai detto che è la prima volta che accade nella storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Reuters precisa, l'hai già un po' ripetuto tu, le truppe russe nella base aerea in Niger. Personale militare russo è entrato in una base aerea in Niger che ospita le truppe americane, una mossa che segue la decisione della giunta nigeriana di espellere le forze statunitense dal paese. Non è come dichiarare guerra direttamente agli Stati Uniti, quindi voglio misurare le parole, però quasi. Adesso vedremo l'evolversi di questa situazione. Significa creare sul terreno dentro una stessa base un'attenzione diretta fra militari di due Stati che di fatto sono rivali. Le prime reazioni del Pentagono sono state nel dire che i soldati americani e russi sono sufficientemente lontani, i soldati russi non sono entrati nelle strutture strategiche, però la realtà è che sono nello stesso spazio. È facile immaginare per tutti noi che cosa sta succedendo in questi minuti con tanto i russi che gli americani che stanno monitorando cosa sta avvenendo in uno spazio di poche centinaia di metri quadrati. Quindi insomma siamo in una situazione, ripeto, senza precedenti, non bisogna ovviamente essere allarmisti, ma bisogna comprendere che il Sahel, il Nord Africa e dunque l'Europa sono il teatro di una competizione fra Stati Uniti e Russia che è anche militare. E vi stiamo mostrando nella cartina per l'esattezza di che cosa stiamo parlando. Non è una storia minuscola, ma come stiamo capendo è una storia che può avere un impatto davvero importante. Grazie, grazie a direttore Molinari e buon lavoro. Saluto subito gli altri ospiti che sono con noi. Alessia Morani, candidata all'Europa per il Partito Democratico. Buongiorno e benvenuta. Claudia Fusani, firma del riformista. Dovrebbe esserci collegato anche, lo vedo, spero che ci senta pure, Tommaso Cerno, direttore del Tempo dalla sua war room, in attesa qui di avere il professor Vittorio Sgarbi. Per ora gli uomini di poca fede della redazione hanno messo soltanto un cartello perché dicono no, ma non si è mai svegliato. Ma invece arriva? Eccolo qua. Mi hanno detto che arrivi. No, Sgarbi in genere interviene in trasmissione, dopo mi abbasso io. Dopo mezzogiorno. Io ho detto no, vedrete che arriverà. Ma intanto c'è una granitica certezza che si chiama Francesco di nome e Magnani di cognome. Buongiorno, Davide. Che invece è qui dalle sette del mattino per raccontarci tutto. A proposito di nomi e corse alle europee, intanto con questo grafico ti mostro tutta l'anomalia italiana perché in tutta Europa non c'è né capi di governo né parlamentari né leader politici che si candidano. Invece in Italia degli otto gruppi parlamentari principali sono ben cinque i leader che correranno alle prossime europee. I nomi li sappiamo. Ma oltre a comperare il biglietto per la giostra e poi non salirci c'è un altro elemento di fondo. È il tema delle multicandidature. perché Giorgia Meloni corre in tutte e cinque le circoscrizioni, Tagliani in quattro non correrà nelle isole, Renzi in quattro non correrà al nord-est, ovunque Carlo Calenda in due circoscrizioni e Lischlein. È evidente che se verranno elette in più circoscrizioni dovranno cedere il passo a eletti che l'elettore non ha conosciuto. A proposito di quello che il professor Prodi chiamava marketing e del liderismo, ci sono nei simboli i nomi dei leader anche di quelli che non corrono. Per esempio la Lega con Salvini Premier, anche se Salvini non corre, e in spirito Berlusconi. Veniamo al tema delle multicandidature perché ci sono alcuni candidati che potranno essere eletti dalle Alpi a Lampedusa. Giorgia Meloni lo abbiamo detto, Vannacci, i due leader della Formazione e Libertà, la triade di Pace e Terra e Dignità, Santoro, Raniero Lavalle e Sabene e i due capofila di azione. Altro elemento da considerare. È una candidatura civetta anche quella dei attuali parlamentari perché c'è l'incompatibilità dal parlamentare italiano e del parlamentare europeo. Tu dici cilenta ma nel senso che poi dovranno scegliere se stare in Europa. Dovranno scegliere e se scelgono di restare in Italia automaticamente entra un candidato che l'elettore non ha scelto. Fratelli d'Italia ne scriverà sei, compresa Giorgia Meloni, Partito Democratico sei, compresa Lichlein, Forza Italia quattro, Lega otto, Stati Uniti d'Europa due, azione due. Sono cinque le battaglie per le cinque circoscrizioni e allora andiamo a vederle perché ci sono dei candidati molto importanti. Nord-Ovest, qui si affrontano donne importanti. Emma Bonino, Stati Uniti d'Europa, Letizia Moratti di Forza Italia, Giorgia Meloni, lo abbiamo detto, Cecilia Strada, pacifisti indipendenti del PD, Ilaria Salis e Vannacci. Andiamo al nord-est dove la sfida sembra riguardare soprattutto uomini di comprovata esperienza amministrativa. Il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, la sindaca di Monfalcone, Anna Cisint per la Lega, famose le sue battaglie contro il Ramadan, la consigliera regionale del Veneto, Donazzan, Pizzarotti, sindaco di Parma che spugnò Parma con i Cinque Stelle, Tosi che peraltro è parlamentare oltre a essere stato sindaco di Verona, Mimmo Lucano. Al centro invece la grande sfida dei leader. Come vedi si contrappongono Tagliani, Calenda, Schlein, Meloni, Renzi, l'outsider dei Cinque Stelle Carolina Morace, ex calciatrice e sarà interessante quante preferenze prenderà Vannacci. Perché? Perché secondo il codice militare è ineleggibile nel centro visto che sta portando avanti un incarico militare al centro. Rapidamente al sud, visto che abbiamo evocato Sgarbi, se la dovrà vedere con indipendente di Forza Italia con Pasquale Tridico, ex uomo IMSS, Teresa Bellanova, già ministro, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, Alessandra Mussolini che torna in pista per Forza Italia, Marcello Pitella, l'uomo che ha determinato la vittoria del centrodestra in Basilicata e Lucia Annunziata. Infine, nella circoscrizione delle isole, ancora Giorgia Meloni e Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa. Leo Luca Orlando, già sindaco di Palermo, Cateno De Luca e Caterina Chinnici. Ha due mandati alle spalle per il Partito Democratico per Forza Italia. Magnani, lo rivedremo tra poco perché ci racconterà anche alcuni dettagli di chi c'è in lista. Morani e Fusani, l'abbiamo subito salutati e partiamo da voi, e il direttore Cerno del Tempo. Come ti sembrano queste scelte dei partiti? Che titolo faresti? Quali sono queste biografie? Partiamo, ti sentiamo bene, vai. Io ho un'idea molto più semplice della democrazia. Le scelte dei partiti rispettano la legge elettorale e quindi saranno i cittadini a dirci se sono giusto o sbagliato. Se i cittadini riterranno che chi si candida per non andare in Europa è un cretino, non lo voteranno. Se prenderà 3 milioni di voti vuol dire che agli italiani di tutto sto dibattito non interessa nulla. Questa è la forza del voto, a differenza delle cose decise dai partiti, di propagandate. Io aspetto il 9-10 giugno quando si saprà e leggendo i voti capirò se la Meloni ha fatto bene, se l'Islam ha fatto bene o ha fatto troppo poco. Se la sinistra si aspettava che il suo leader facesse ancora di più o se ha ragione Prodi nel video che tu hai mandato a dire che lui sarà vecchio stampo ma la sinistra quella roba lì non la vuole. Io non la chiedo ai colleghi, ai candidati, la chiedo agli italiani e quando mi avranno risposto ti saprò rispondere a questa domanda e vedrai che sarà una risposta esattamente precisa perché sapremo cosa pensano gli italiani e non quello che diciamo noi prima per indirizzare il dibattito facendo finta di essere degli esperti. Detto questo, per il momento, siccome ci sono le prime 24 ore di campagna elettorale, mi permetto di dare un modesto consiglio al PD. Hanno già abbastanza da fare per la propria campagna elettorale, se smettessero di farla a Vannacci sarebbe una bella notizia, nel senso che Salvini e Vannacci la nuova bestia di comunicazione gliela fa il PD, che gli fa i manifesti, che gli fa le manifestazioni, che li ha fatti passare in 24 ore da vittime, che non possono parlare, che non gli danno le stanze, cioè diciamo che se smettessero di aiutare Salvini sarebbe più utile al PD. Tutto qua, consiglio modesto. Tu oggi hai detto Salvini, Vannacci, Falce e Bavaglio e quindi citando, adesso lo vediamo cosa è successo a Napoli. Eh sì, perché veramente non si è mai visto che la sinistra fa campagna elettorale alla destra. La state facendo la campagna elettorale alla destra? Ma allora, io credo che Vannacci affermi dei principi che sono completamente contrari rispetto ai nostri. E Vannacci può essere utile in una campagna elettorale anche per affermare la propria identità, i propri valori e le proprie idee, perché noi siamo l'esatto opposto dell'omofobia, della xenofobia, del razzismo, dell'esclusione sociale. Noi siamo l'esatto opposto. Quindi Vannacci può essere utile anche rispetto all'elettorato per affermare i nostri valori, le cose che vogliamo fare, che sono antitetiche rispetto a quelle di Vannacci. Ed è una contrapposizione che siccome abbiamo fatto per tanti anni un dibattito che non esiste più la destra, non esiste più la sinistra, che sono tutti uguali, non è vero. Invece c'è una differenza profonda tra noi e loro. E Vannacci è utile ad affermare anche la differenza che c'è. E quindi gli elettori si troveranno di fronte in una scheda. Sembra letta. Io l'ho già vista questa campagna elettorale. Ti consiglio due volte di cambiare l'unico. Proprio perché mi dici questo. E l'ho già vista succedere alle politiche. Il mio consiglio è andate da un'altra parte. Cominciate a dire cosa pensate voi e non che Vannacci vi serve. Sentiamo Fusani e proprio Mazzaria. Posso dire una cosa? E poi di un déjà vu drammatico. Però guarda c'è una differenza profonda perché nel momento in cui si ricomincia a parlare di classi separate per i bambini disabili, io che faccio parte invece di... Attenzione. Clamoroso. Sta arrivando Vittorio Sgarbi. Clamoroso perché sono le 11.26. Allora famiglia. Eccolo qua. Eccolo. Eccolo Vittorio Sgarbi. Sta entrando. Allora guarda che roba. Adesso c'è proprio l'ingresso. Eh sì perché... L'ingresso trionfante. Eccolo. Fai con comodo caro Vittorio. Tanto sono solo le 11.26. Nessuno... Stavo dicendo una cosa importante secondo me. Quando sento parlare di classi differenziate per i disabili, allora a me viene la pelle d'oca perché quel tipo di... esclusione per quei ragazzini, per quei bambini che sono una parte invece fondamentale anche per la crescita non solo loro ma anche degli altri bambini, allora io reagisco a queste proposte che io reputo ripugnanti e dico che quella cosa che dice è assolutamente l'opposto rispetto alla politica che portiamo avanti noi. Saluto Vittorio Sgarbi. Posso dirti subito una cosa? Quei malfidati che sono dietro le quinte, che vorrei urgu in particolare, gli autori, mi hanno detto guarda Sgarbi non verrà prima di mezzogiorno perché non si sveglia mai la mattina. Io ho detto... Invece lo sveglisci. Esatto. No, puoi mandarlo a quel paese solo per questo dico. No, è che piove c'è traffico. È diventato buono Vittorio, va bene, da quando si è candidato con Giorgia Meloni è diventato buono, improvvisamente. No, guarda, io invece sono assolutamente d'accordo con Cerno, cioè Vannacci è il nullo, per motivi diversi ovviamente, considero Vannacci il nullo assoluto su cui non va sprecato in mezzo secondo di tempo. Beh, adesso il nullo assoluto però... No, ma è una persona pericolosa perché fa affermazioni pericolose, allora sottolinearle ogni volta, gli fai da megafono. Va semplicemente ignorato. Ieri ha detto che... Stai vedendo intanto una cosa epocale? Missione cinese sulla Luna. Ecco. E questo sta partendo, questo su, questo è veramente indiretta. Vi stiamo mostrando la missione cinese sulla Luna. Ve lo stiamo documentando in esclusiva all'aria che tira. Infatti io vorrei che questi candidati smettessero di parlare di appunto di nomi, di parentesi eccetera e parlassero di quello che è successo in Niger. Io vorrei sentire i candidati all'Europa che tipo di Europa vogliono in un mondo in cui sta succedendo quello che è successo in Niger, in cui sta succedendo questo, che va benissimo. Però è un mondo completamente diverso dal mondo bipolare che abbiamo conosciuto e su cui il mondo è stato organizzato... E quindi secondo te c'è una classe dirigente che è inadatta? Visto le liste, oggi stiamo vedendo tutti i nomi... Non ne stiamo parlando, io vorrei sapere i candidati cosa dicono su queste questioni, che sono quelle che mi... Allora abbiamo la pubblicità e poi riprendiamo da Vittorio Sgarbi che ha scelto di candidarsi con Fratelli d'Italia. Oggi uno dei tuoi giornali preferiti, te lo anticipo che è il Fatto Quotidiano, dice che sei un impresentabile... Chi è che ride? Eccolo qua. Euro impresentabili... Vittorio ci sei, no? Ho avuto il tuo silenzio... Perché la televisione vive di immagini... Vedi come è diventato bravo... Dico, vive anche di parola la televisione... C'è il mito... No, possiamo fare la tv che non parla... Però lo facciamo dopo la pubblicità, sono le 11.29... Ha diventato bravissimo, non replica, guarda... Non c'è alcuna norma che richieda di dichiararsi antifascista... Quello che dice Vannacci è un irricevibile... E chi lo decide? Tutte le azze te lo grida in coro... Le progetti Vannacci no! La marcia del generale Roberto Vannacci, capolista anche al sud Italia, con la Lega alle prossime europee, fa tappa a Napoli tra contestazioni e applausi. Non un appuntamento elettorale, ma la presentazione del suo libro, Il mondo al contrario. Per quale motivo dovremmo rinunciare a questa identità? Per fare spazio ad altre identità? E quindi c'è bisogno di cancellare la nostra per essere più inclusivi? Eccolo dov'è il paradosso che collega tutti i capitoli del libro. Il generalissimo parla di patria, identità e censura. Toni forse più diplomatici e sommessi, dopo il clamore per le classi separate, gli italiani statisticamente bianchi. Credo di aver dimostrato in 37 anni di mia vita di non cambiare, di credere in quello che faccio. Non credo di aver fatto delle esternazioni estreme. Alla fine dice esattamente le cose che tutti pensano, ma pochi esprimono. A pochi chilometri dall'evento il corteo anti-Vannacci, a cui la questura di Napoli aveva fatto di vieto di avvicinarsi al luogo della presentazione. Noi crediamo che Roberto Vannacci a casa nostra non abbia diritto di parola. E' una manifestazione che ha semplicemente l'obiettivo di dissentire davanti a delle idee che troviamo francamente irricevibili. Forza! 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 Bisogna essere definiti fascisti, allora sì, siamo fascisti. E ve lo diciamo con chiarezza. Il generale Parenzo la invita in studio, verrà? Gli devo dire se la matriciana si fa con la pancetta o con il guanciale? E' questo che vuole sapere. E' questo che vuole sapere lui. E' la volta buona magari invece per argomentare insieme. Ho capito, ma non è denigrandomi che mi si invita in una trasmissione in tv, no? Va bene, e allora no, l'invito rimane sempre valido, ovviamente per sentire le sue idee e le sue opinioni. E quindi il studio è aperto. Vittorio Sgarbi, candidato con Fratelli d'Italia. Intanto perché la scelta di Fratelli d'Italia della Meloni? Che è un po' estranea la tua storia. Tu sei stato con i radicali, sei stato con Forza Italia. Sei eletto con i liberali. Sei eletto con i liberali. Perché ho il senso della storia. Ora meloniano. Meloniano no. Stimo la Meloni. Considero che il suo riscontro elettorale sia tale da, l'ho conosciuta e l'ho proposto anche tempo fa, di collegare l'idea del rinascimento con Fratelli d'Italia. Ho sbagliato io a non insistere su questo punto perché lei era al 3%. E a quell'epoca Forza Italia era al 30%. Prima la Revoluzione Cristiana era stata al 30%. Quando un partito arriva al 30% non è più un partito di una piccola parte. E' un partito di una maggioranza silenziosa che ha bisogno di una voce. Ecco perché io allargando l'area di Fratelli d'Italia come indipendente, così come loro hanno ritenuto dovessi presentarmi, ho scelto di stare in un campo aperto, un campo largo, che è un campo in cui non c'è soltanto l'area di destra che lei rappresenta, ma c'è una parte di Forza Italia, una parte della Lega. I dati del 30% di Forza Italia o del 34% della Lega sono confluiti, gli stessi elettori, in una ideale destra, centro-destra. Poi c'era Renzi, anche Renzi all'europea fece un risultato di una parte di Renzi. Per cui da questo punto di vista... Il campo largo, adesso facciamo il titolo, il campo largo se mua, il campo largo se mua. Io sono in un campo largo con una componente che si chiama sempre rinascimento e che indica che è fondamentale per l'Europa che ci sia un'idea di cultura e di Italia. L'Italia al centro d'Europa. Ti dirò di più che ho difeso, in tempi lontani, la necessità che la Grecia non fosse espulsa dall'Europa come rischiava di essere e come anche l'Italia rischiava di essere prima del governo Monti, perché non si può immaginare un'Europa senza Grecia e senza Italia, che vuol dire i valori culturali di democrazia, di libertà, di bellezza, di civiltà, di musica che noi rappresentiamo e che rappresenta la Grecia. E questo il punto di partenza della mia campagna, che investe 4 regioni su 6 in quella che si chiamava Magna Grecia, è indicare che la Magna Grecia, che vuol dire Grecia e Italia insieme, Atene e Roma, sia un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Cioè io credo che il lancio che ha avuto le Langhe e il Roero, il Prosecco nel nord-est, debba essere fatto con valori fondanti di culture e di civiltà che sono la Magna Grecia, che vuol dire Basilicata, Campania, Calabria e Puglia. Ma tu ci andrai quindi in Europa. In Europa è legato ai voti che prenderò. Qualora dovessi essere eletto, però starai, perché ci sono molti che dicono, molti chiedono il voto, però poi nel sud, No, la Costituzione sud, diciamo, tutte le persone che sono al sud e che ti sfidano, è lì, sono tutti persone che... No, ma poi tu dici una cosa che ha a che fare soltanto con la indicazione molto frequente, che chi è al governo o è in Parlamento italiano... Guarda, scusami, anche verso di là, so capisco che tu sei attratto da me e non sei l'unico, però... O nel Parlamento italiano si candida per prendere voti ma non può andare. Finché non vuol dire assolutamente niente, perché un partito è fatto di persone e Giuseppi o la Schlein sono il partito democratico. Giuseppi non si candida però. Perché vuol fare lo spiritoso. Con Conte non si candida. Infatti sarà il più grande declino di un partito che, come se io capisco bene, i sondaggi danno il 15, ma come fa un partito a prendere il 15% se ha fatto il 7% in Sardegna, il 7% in Abruzzo, il 7% in Basilicata. Sui numeri vedremo. Però Conte, dal suo punto di vista, poi sentiamo gli altri, dice io sono coerente, io siccome non voglio prendere in giro gli elettori, io non ci vado. Ma non li prende in giro. Gli altri lo fanno solo per tirare sulla lista. Capito che tu vuoi fare polemiche, io ci sto dicendo che c'è una ragione. Io non c'entro perché vado in un Parlamento e non solo in un Parlamento. Ma chi è in un Parlamento e rappresenta il simbolo del suo partito, è giusto che ci vada. È il contrario di quello che dicono i vari Travaglio, mi pare, una persona... Travaglio, adesso dice Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e che racconta che tra gli euro impresentabili, che sono 23, dice che c'è un signore che si chiama Vittorio Sgarbi, scrive, Vittorio Sgarbi in corsa con Fratelli d'Italia con alle spalle una condanna definitiva per truffa aggravata ai danni dello Stato. Anche grazie ai nostri scoop, Sgarbi è ora sotto inchiesta a Macerata per riciclaggio, vado avanti, di beni culturali e a Imperia per esportazione illecita di opere d'arte. In più a Roma è indagato per sottazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Posso, Davide, dire... Vedi che l'uno è ormettica... È la voce di un condannato con una condanna definitiva per diverse diffamazioni, quindi questa è un'altra, avrà un'ulteriore condanna. Però a molti giornalisti può capitare di... Avrà un'ulteriore condanna per questo... Lui ha già condannato in via definitiva il signor Travaglio, si chiama... No, Travaglio, ma dai non stoppiamo in... Io non so chi sia. Marco Travaglio. Io non so solo che mi hanno detto che è condannato in via definitiva per molte condanne per diffamazione e continua a diffamare. Qui dice semplicemente che ci sono queste indagini in corso, questo è vero però che ci sono queste indagini in corso. Ci sono in corso. Condanna definitiva per truffa aggravata ai danni dello Stato, questo lo scrive il fatto, anche per questo... Verrà citato in giudizio. Verrà citato in giudizio. Posso dire una cosa che... Io trovo che la candidatura di Sgarbi, penso, sia stato un modo per correggere un errore fatto in precedenza, perché far dimettere Sgarbi è stato, a mio avviso, un errore. Quindi un risarcimento del danno. Una sorta di risarcimento, perché comunque danni... Sì, danni. Sgarbi è una persona indagata, fino a prova contraria di essere sotto inchiesta. È una... come dire... Sei sotto inchiesta e non si sa, non c'è nessuna certezza. Quindi è stato un errore averlo fatto dimettere prima. È una forma di risarcimento quella di candidarlo adesso. Voi direte, ma perché una contraddizione così forte in pochi mesi? No, perché in due mesi una Presidente del Consiglio lo fa dimettere, io poi non so cosa si siano detti in quel famoso giorno in cui... Però è stato un errore lì. Allora, adesso... Sì, questa è una valutazione interessante. Adesso lo ricandida perché si è resa conto che le accuse di cui parla Travaglio probabilmente sono cose che, come spesso succede in molte inchieste, vengono annacquate. Una volta ottenuta la testa sul piatto, capito? La testa tagliata sul piatto... Cos'è? Siccome Meloni ha sbagliato prima a farti dimettere, a questo punto poi c'è il... Non so se sia una valutazione... E' molto generosa la dottoressa Susani. No, non è generosa, no, 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 nessuna generosità, per carità di Dio. No, no, dico, quindi accolgo questa interpretazione... Però mi sono stufata di gente che ha indagata e che viene buttata, capito? Perché è indagata. No, questo è giusto. E mi sono stufata. Io ho letto l'ulta la vita, però non è una decisione della Meloni, certo, la sua decisione è di candidarmi, ma io mi sono rimesso spontaneamente un attimo dopo che l'antitrust ha dichiarato che le mie conferenze, che sono quelle che ho fatto l'ulta la vita, erano incompatibili, come se parlare di arte fosse una cosa che non si può fare in quanto sottosegretario. Ero un uomo di governo che sapeva le cose che faceva e le ha sempre raccontate. E sono stato utile all'Italian nel raccontarle. Tutto qua. Per cui mi sono rimesso e lei è stata grata a me che non le avessi posto il problema di fare un consiglio dei ministri per farmi dimettere come fece Berlusconi. Perché fui già fatto dimettere nel 2021 da Berlusconi per il conflitto con Urbani, questa volta che non si è riprodotto, però anche qui con una difficoltà... Cioè, ogni volta che si è andato a governare il Ministero della Cultura... Tu mi ero cacciato da ogni po', mi ero cacciato da sindaco, da assessore alla cultura quando feci la mostra... Oggi sei sindaco ancora dove? Sono sindaco ad Arpino. Voglio ricordarti che io ho fatto la mostra... E assessore dove? Sono assessore a Viterbo. Cioè sei assessore a Viterbo? Non dico che tu sorrida, perché tu sei compatibile. Sorrida perché sei un cretino. No, sorrido... Sono un cretino che ride così. Sorrido perché... Perché Urgu riesce a fare solo quello... No, perché fai sorrisini mentre parli. Sai perché sorrido... Stai spiegando che io sono stato cacciato dalla Moratti perché ho fatto la mostra arte e oposessualità. Cosa per cui oggi sarei premiato. Sono venuto all'inaugurazione di quella mostra. Sono stato cacciato da alto commissario a Piazza Rambini. Dovunque. Il potere ha sempre ritenuto che io fossi incompatibile. Però la volta che io mi sono dimesso, cioè questa, io mi sono dimesso, ho tolto al Presidente del Consiglio una responsabilità e quindi ha ritenuto che io non dovessi essere assente dopo 35 anni di attività politica dal panorama politico. Capite? Non è meliano, è sgarbiato. Ma questo, certo, diciamo. Allora, andiamo un attimo a Lecce. Tu devi sapere che io faccio il sindaco a D'Arpino, l'assessore a Viterbo. E che tutto questo è compatibile per la legge. Quello che è nella legge, compreso mettere il nome Giorgia oppure candidarsi, se è nella legge non va discusso. E quindi puoi fare anche l'eurodeputato e anche quello non è incompatibile. Fare il sindaco, l'eurodeputato. Le incompatibilità sono sopra i 15.000 abitanti con parlamentare, con parlamentare europeo. sono tra assessore o presidente di regione e parlamentare europeo e parlamentare nazionale. Quindi rimarrai, diciamo, sindaco e assessore. Se noi abbiamo una legge invece andiamo a dire perché si scrive Giorgia? Perché nessuno lo impedisce. Ma infatti il tema non è perché si scrive. Molti hanno sollevato il tema del è lecito. E tutto è lecito. Però se tu chiedi addirittura la preferenza... Allora, che sia opportuno o meno l'opportunità. Questo è però in politica... È inopportuno che alcuni giornali esistano. Vabbè, quello sia la libertà di stampa. A Lecce andiamo un attimo da conto. A casa nostra dice una che tu hai fatto sentire prima persone come Vannacci non hanno diritto di parola. Beh, quello dicevano alcuni manifestanti di lì a Napoli. Devo dire che le frasi sono le frasi. Le frasi sono le frasi. Allora, ti faccio dire Zaia perché cosa ha detto su Vannacci. Zaia, governatore del Veneto ci sono dei malumori all'interno della Lega e questo non è che lo diciamo noi ma lo dicono loro stessi e qualche malumore c'è stato anche dentro Fratelli d'Italia per la tua candidatura. Di chi? Qualcuno. Se qualcuno avrà un numero. Eh, sì adesso magari lo sentiamo vediamo Zaia Sei impreciso come Vannacci No, no, no ti assicuro che sono precisissimo Qualcuno Precisissimo Sentiamo Zaia Il generale è candidato come indipendente quindi la Lega ha i suoi valori e il generale avrà i suoi Lei non voterà Vannacci? Beh, io i miei candidati fra l'altro mi sentirei come un peccatore a votare qualcuno che non sia Veneto per cui io scelgo i Veneti ma senza offesa per gli altri Va bene e questo è il parere di quello che avviene all'interno della Lega che è anche normale che qualcuno dica io voto i miei voto i miei candidati Vediamo qual è la situazione a Lecce intanto vedo una Ciriello in Piemonte a caccia di Matteo Salvini nei mercati della Lega Prego Allora Ciotti Se vedi me David Una Allora Una Ciotti Ciotti in Piemonte Vai Una Ciotti e una Ciriello Esatto Sì, allora Io sono a Fossano che è in provincia di Cuneo è in corso in questo momento una conferenza di ANAS a cui il Ministro Salvini è stato invitato chiaramente parliamo di un evento istituzionale lui è qui ufficialmente chiaramente come Ministro per le Infrastrutture ma sappiamo che più tardi avrà anche un incontro con i cittadini di Fossano quindi si può dire che in qualche modo apre anche una campagna elettorale sui territori e per questo ha ricevuto anche una critica dalla Sindaca di Cuneo che era anche qui con noi stamattina e si aspettava che lui facesse invece magari dei sopralluoghi in una delle tante incompiute piemontesi per esempio Colle di Tenda che è il traforo che ci collega alla Francia quindi si aspettano risposte la Sindaca è venuta qua proprio chiedendo di avere risposte da Salvini e anche da Rixi che è qui e poi vediamo Salvini sta per parlare dal palco quindi capiremo che cosa dirà sia sul Piemonte sia eventualmente anche su Vannacci quello che sta accadendo in questi giorni a Lecce invece Ludovica Ciriello segue la campagna elettorale di Conte e sappiamo che lì c'è tutto il caso Bari il caso Puglia con il terremoto politico che ha investito direttamente la regione Ludovica non è una scelta casuale quella del Presidente del Movimento 5 Stelle di iniziare proprio dalla Puglia e di tornare qui intanto ti faccio vedere anche noi siamo in un mercato questo è il gazebo sotto il quale si stanno raccogliendo le firme anche per il voto su Lecce dove a Lecce diciamo PD e 5 Stelle saranno insieme che ormai è diventato diciamo un inedito almeno per la Puglia visto quello che è successo su Bari qui si aspetta ti dicevo il Presidente Giuseppe Conte vedi qui il logo del Movimento che è quello scelto per le europee con la scritta pace nel logo la grande aggiunta del Presidente Conte per queste europee ci sono tanti appuntamenti che partono proprio da qui da Lecce noi cercheremo di intercettarlo intanto per capire se ci sono passi avanti sul rapporto con il PD e con la Giunta Emiliano dopo la sua decisione di ritirare gli assessori dalla Giunta Emiliano ma anche per capire insomma le prospettive in vista delle elezioni europee che appunto ti ripeto da qui lui inizia la sua campagna elettorale e allora Sgarbi Morani queste elezioni europee a 35 giorni dal voto saranno poi il giorno dopo un motivo anche di conta all'interno delle due coalizioni questo non possiamo negarcelo cioè gli equilibri anche all'interno del centro-destra adesso noi scherzavamo sui malumori scherzavamo in realtà ci sono all'interno della Lega l'olobrigida il Ministro che sulla candidatura di Vittorio Sgarbi dice questo tu l'avrai già sentito dice che sono indipendenti nulla contro di me voglio farlo sentire ma non è contro magari qualcuno che può avere delle perplessità come Zaia non è che è contro Vannacci però dice che è una candidatura che è fuori dalla storia è la candidatura più intelligente che poteva fare un leader politico che hai visto che Conte che non è candidato però che faccia c'era nel manifesto di Cinque Stelle c'è il logo e c'è la faccia di Conte è candidato perché c'è la faccia sua non c'è la faccia di un candidato nel logo non c'è la faccia di Conte nel manifesto che avevo visto se io faccio che il padre mi chiamo Meloni il mio partito è Fratelli d'Italia mi identifico con la mia faccia e quindi quello che fa lui è la stessa cosa perché non mette la faccia del candidato che lo sta portando perché nessuno sa chi sia perché lì è più forte il marchio del partito perché lì è più forte il marchio del partito sto dicendo che il fatto che si candidi è un pretesto sofistico ti candidi non per essere eletto in Parlamento ma per rappresentare la tua parte politica quindi la Schlein ha fatto bene ha fatto bene Matteo Renzi ha fatto bene Calenda perché sono quel partitino che hanno creato quel grande partito che sono e Conte che crede di essere un grande partito mette la sua faccia e non quella del candidato per chi la fa la campagna per sé io vedo Conte e voto Cicci ma infatti è un grande sondaggio è un grande sondaggio di politica interna ahimè invece di essere un sondaggio sulle proprie però questo è un tema perché nelle altre parti d'Europa non accade così che i leader non accade la legge ma no ma non è questione di capire ma c'è la legge tutto ciò che allora Morani tutto ciò che non si dice di male perché se tu non è che abbiamo 200.000 leggi a fronte di 20.000 della Francia ne aggiungiamo ancora proibito questo tutto proibito allora se non è proibito lo puoi fare dopo di chiedere non sarà opportuno lo fai esatto è solo questa non possiamo parlare per due settimane sei candidato come me all'elezione europea a me piacerebbe poter parlare di Unione Europea della Salute mi piacerebbe parlare del salario minimo europeo mi piacerebbe parlare di tutte le disparità fiscali che ci sono all'interno dell'Europa mi piacerebbe parlare di transizione ecologica di quali sono gli effetti però invece noi siamo dietro a parlare di vannacci e di tutte le bestialità che dice su temi che sono purtroppo tra l'altro anche inaccettabili rispetto alle cose che dice per la mia visione democratica e costituzionale che ho delle questioni di cui lui parla e invece dovremmo riuscire a parlare di quelle che sono invece le sfide europee perché abbiamo una guerra nel cuore dell'Europa in Ucraina che credo che sia un grande tema questa elezione europea la difesa comune la politica estera comune l'esercito comune però non ne parliamo e a me dispiace perché invece siccome le decisioni che vengono presi in Europa sono impattanti in maniera importantissima rispetto alle decisioni del paese non ne parliamo mai Salvini lo dice ha fatto uno slogan che è meno Europa cioè per lui è il contrario giusta e può farla noi stavamo parlando del fatto che quelle idee che il singolo candidato rappresenta rappresenta invece Schlein Meloni perché essi assumono le parti dei piccoli candidati che non sono nessuno quindi questa è la ragione per cui ci sono la cosa che dice lei è giusta e ogni candidato farà quello che ritiene giusto nella sua campagna elettorale quanto al tema Vannacci l'errore più grave che si poteva fare l'ha detto da Fusani è che questa è la quinta trasmissione in cui io partecipo da quando sono iniziate le campagne è sempre su Vannacci quindi lo farete leggere voi non capisco di quello che dobbiamo parlare perché dobbiamo parlare di Vannacci che ancora cosa pone un problema di un'intelligente candidatura per acchiappare voti di Salvini che non si incandida però le storie delle persone sono allora adesso io posso scherzare fino a quando vuoi però prova poi dimmi che ha detto una cazzata mi puoi dire perché dobbiamo parlare di Vannacci no non devi parlare di Vannacci parliamo ogni candidato porta una storia quindi Vittorio Sgarbi porta la sua storia allora siccome nel sistema proporzionale come tu più volte ci hai insegnato la storia di ogni singola persona è il valore aggiunto al partito perché altrimenti uno vale uno hai capito allora vuol dire che tu puoi portare in Europa questi valori quando candidi un Novax vuol dire che vuol dire mi sembra più intelligente una volta le idee della Lega sono identiche a quelle di Vannacci identiche ma non è così lo sono ben io non è così ma lo dicono loro lo dicono tre o quattro quando tu casi un Novax vuol dire che vuoi portare un militante della Lega e allora il punto è Salvini fa una cosa nobile a non candidarsi però candida uno che è ignobile quindi va sempre l'altro invece fa una cosa nobile a candidare Sgarbi ma è ignobile a candidare se stessi non rompete i coglioni allora sentiamo scusate facciamo una cosa il Magnani il nostro Magnani seguite Magnani Magnani ci fa un militante della Lega di Tre Baseleghe ti faccio capire perché il ragionamento invece è interessante cioè sapere le storie dei singoli ma lui è stato intelligente non ha candidato se stessa ma non sto contestando ma non stiamo criticando stiamo raccontando le biografie di alcune persone che sono cantate le europee guarda Magnani guarda Magnani a proposito di storia io non so se tu ricordi questa foto la foto di questa spiaggia ma basta che ti faccia vedere quest'altra foto e capirai stiamo al papette è l'emblema delle elezioni di 5 anni fa 2019 Salvini al top ebbene allora il patron del papette Massimo Casanova era candidato diventò europarlamentare adesso non c'è più ancora a proposito della storia 10 anni fa Matteo Renzi candidava 4 donne capolista oggi corre per Stati Uniti d'Europa e guarda un po' che cosa succede oggi pomeriggio a Bologna la candidata Antonella Soldo assieme a Alessandro Cecchi Paone lancia la sua campagna elettorale probabilmente distribuendo o semini o qualcosa attinente alla cannabis ora siamo negli anni di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia si è parlato tanto di lei ricandida tutta la sua squadra e se c'è chi invoca il diritto ai cannoni c'è chi invece invoca il diritto ai fucili Pietro Fiocchi ex eurodeputato ricandidato si presenta con il fucile in questo manifesto era lo stesso che aveva pubblicato gli auguri di Natale con i bossoli sull'albero altro europarlamentare uscente che sta facendo molto discutere Sergio Berlato proprio due giorni fa ha partecipato al convegno il grande il broglio del covid 2019 fratelli d'Italia parenti d'Italia nella circoscrizione nord-ovest corre visto che non è stato possibile convincere il ministro a farlo il nipote Giovanni Crosetto che è consigliere comunale a Torino andiamo al nord-est dove il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani si candida ma è anche il fratello del ministro Luca altri familiari famosi la figlia del ex governatore della Banca d'Italia Fazio Maria Chiara Fazio si candida con Berlusconi e visto che siamo nel paese del Tengo Famiglia ti faccio notare che anche il papà del amatissimo attore Elio Germano Giovanni si candida al sud con Alleanza Verdi e Sinistra va bene adesso ti do in pasto Vittorio Sgarbe però Crosetto è stato simpatico almeno l'ha messo Tengo Famiglia intanto ci abbiamo Conte in diretta a Lecce vediamo un attimo magari facciamo un confronto a distanza di un candidato di 5 Stelle nel Meridione Tridico Tridico Pasquale Tridico sta iniziando ad incontrare si è stato accompagnato da Tridico e sta iniziando ad incontrare i cittadini che erano qui ad aspettarlo da un po' e farà il giro del mercato e poi proveremo ad intercettarlo va bene lo riprendiamo dopo la pubblicità allora riusciamo a stare ancora qualche minuto no? tra poco lo rivediamo ultima battuta di Vittorio Sgarbi a chiudere perché poi è qua non ha mai parlato sì parlato prima no ho detto cose troppo intelligenti per la media della trasmissione evidentemente poi non mi hanno più chiesto niente siamo stati tra molti tra molti se fossi nel PD se fossi nel PD smetterei veramente di parlare di vannacci non solo nelle intenzioni nei fatti perché il rischio che corre è il PD visto che si lamentano che Zaia non vota vannacci che era una cosa normale ma ci sono molti che non votano scheline dentro il PD se vannacci prende più voti della scheline succede un finimondo quindi è meglio che comincino a fare campagna elettorale per la scheline e qui ve l'ho detta poi ci vediamo il 10 di giugno vi dirò che non succederà allora facciamo così rimane agli atti rimane agli atti la profezia di Tommaso Cerno rimanga agli atti non succederà abbiamo la pubblicità grazie agli ospiti caro Vittorio grazie ci rivediamo presto però avremo un dato che vannacci vannacci sarà nel Parlamento Europeo la scheline no questo è immorale ma non lo so se è immorale però è una questione di chi ho la pubblicità è che il parlamentare europeo il parlamentare italiano il ministro il primo ministro si muovono nei parlamenti per cui la Meloni andrà al Parlamento Europeo parlerà e quindi il problema della circolarità delle funzioni dovrebbe oppure il problema ma va tutto bene dico solo che siccome tu lo scrivi quel nome dici che quella persona vuoi che vada a fare questo carri però se tu pensi che non sia neanche una polemica da fare è una discussione però il cinismo è una brutta cosa adesso però una cosa molto importante è la pubblicità perché qui non c'è il canone andate a Lucca a vedere la mostra di Canova questo va sempre bene anche tu che non sei andato dovresti stare qui a dire le tue cose lanciano tu la pubblicità per Cairo perché così Cairo è venuto è venuto con me alla mostra di Canova è grande uovo di cultura si sa pubblicità tra poco Allora sono le 12.03 con noi in studio Giovanni Minoli bentornato buongiorno grazie punto di riferimento quando si tratta di analizzare le grandi cose che accadono nel mondo infatti vedremo la reazione poco fa del Cremlino alle parole di Macron il Cremlino dice dichiarazioni molto pericolose quelle del Presidente Presidente francese e ne parleremo e poi ovviamente il dibattito sulla politica italiana è rimasto intanto in studio dietro le quinte il professor Sgarbi a fianco a Roberto Arditti non si capisce perché ma noi lo ospitiamo sempre con grande lì dietro con grande gioia e intanto è lì è lì dietro vuoi venire a parlare con Minoli dopo se non hai niente da fare caro Vittorio noi ti aspettiamo sempre con gioia ma prima abbiamo Cristina Fantoni di Gila7 che ci dà gli aggiornamenti e intanto verifichiamo la presenza di Sgarbi prego Ciao Davide buongiorno a te e naturalmente ai tuoi ospiti allora 13.30 al telegiornale le notizie in primo piano riguardano senza dubbio ancora il conflitto in Medio Oriente da una parte la trattativa per la tregua ma soprattutto queste immagini forte che continuano ad arrivare la protesta pro-Gaza che ha contaminato dal punto di vista della mobilitazione una serie di campus anche d'eccellenza sono 2100 gli arresti solo nelle ultime ore peraltro si è arrivati al Canada e anche al vecchio continente con immagini molto forti che faremo vedere nel corso del telegiornale ci sono i capitoli della nostra politica quelli che riportano anche il nostro inviato a un anno dall'alluvione in Emilia Romagna cercheremo di fare i conti in tasca rispetto a quanto promesso quanto effettivamente arrivato alle famiglie agli esercenti che hanno perso tutto nel corso di quelle ore drammatiche il dramma del fentanyl torneremo a parlarne Davide perché è un'allarme che scatta anche in Italia è stata trovata questa dose venduta e analizzata eroina tagliata col fentanyl a Perugia è un dramma un'epidemia da 100.000 morti l'anno negli Stati Uniti in questo momento e poi abbiamo anche un'ampia pagina sportiva perché si va in campo ogni giorno e siamo riduci dalla settimana di coppe europee a te grazie grazie che si raffattano e poi lo vedremo quello che sta accadendo nelle università non soltanto americane come vi abbiamo raccontato ma ora notizia arrivata proprio poco fa anche in Europa a Parigi si parla spero che tra poco riusciremo a darvi anche le immagini dell'intervento della polizia per evacuare Sciences Po la nota la nota e prestigiosa facoltà di scienze politiche nel cuore latino di Parigi allora Giovanni Minoli partiamo però prima di affrontare l'estero dalla campagna elettorale tra poco vedo che c'è anche il presidente Conte collegato dalla Puglia tra poco lo ascolteremo ma questa scelta di Giorgia Meloni di mettere non solo di candidarsi ma di dire votate Giorgia Minoli Giorgia Meloni detta Giorgia sì come Giacinto Pannella ha detto Marco certo come Benedetto Craxi detto Bettino cioè mi sembra che niente di nuovo sotto il sole cioè una cosa già vista già capitata già usata e consumata quindi non mi sembra una grande una grande notizia è una notizia che serve per cercare di ancorarsi di più al proprio alla propria al proprio pubblico lo è forse dal punto di vista della comunicazione Giovanni Minoli cioè si è detto tu giustamente dici ma guardate che in passato si è già fatto ho fatto due esempi precisi Giacinto Pannella detto Marco scritto sul però quello era Pannella cioè tutti scrivevano Pannella non no sulla sulla scheda c'era scritto Giacinto Pannella detto Marco sì su Craxi c'era Benedetto Craxi detto Bettino poi tu scrivevi quello che volevi potete scrivere Benedetto Bettino Craxi cioè è già uguale è una cosa in più è una cosa in più rispetto al discorso ti candidi ma non vai sì che è un discorso serio che vale per molti secondo me per Giorgia vale meno perché? perché il luogo dove in Europa si decide non è ancora il Parlamento ma sono le riunioni di capi di Stato e di Governo è il Consiglio Europeo il Consiglio Europeo lì il Presidente del Consiglio gioca le carte quindi è lì dove è presente in Europa il suo modo di stare in Europa lei come qualunque altro Presidente del Consiglio cioè quindi per gli altri la discussione è aperta e ha senso per lei forse è un po' meglio perché tu giustamente ricordi che in Europa l'Europa oggi si regge su tre gambe da una parte il Parlamento Europeo il Consiglio Europeo dove siedono i capi di Stato e di Governo e la Commissione essendo tre gambe tu dici ma quella dove decidono veramente dove ci sono i capi di Stato e di Governo e gli altri voglio sentire un istante che è collegato adesso con noi e poi lo liberiamo il Presidente Conte che credo ci senta posso chiedere di prima un giudizio su questa campagna su questa campagna elettorale non solo di chi ha scelto di non candidarsi e sono solo due perché ci sono Conte e Salvini che hanno scelto di non candidarsi perché Conte adesso ce lo ripeterà dice io non vado in Europa ho la mia classe dirigente che mando lì ma per gli altri secondo te vale vale comunque il gioco di che ci si testa te l'ho detto fa parte del macchiavellismo più o meno intelligente dell'italiano politico nel politico italiano in realtà la domanda infatti ho sbagliato io in realtà era più articolata ed è questa si può essere leader di partito dal luogo che in realtà forse conta di più cioè Bruxelles fuori dalla retorica siccome si dice l'Europa è importantissima l'80% ma io infatti ti dico per quello che riguarda la Meloni secondo me il problema è minore perché il luogo dove si decide è dove ci sono i capi di governo lì decidono l'Europa si fa lì quindi può essere nominata il Parlamento europeo sì o meno ma se hai un'idea le cose da fare cose di cui bisognerebbe parlare perché penso anche che dire solo onestà è un po' poco perché dovrebbe essere una precondizione della politica l'onestà non uno slogan finale però ci abbiamo il Presidente Conte e regiriamo questa domanda Presidente Conte con Ludovica Ciriello e poi torniamo subito da Giovanni Minoli vai buongiorno buongiorno ditemi tutto se volete se volete commentare insomma quello che stava dicendo Giovanni Minoli rispetto alla candidatura di altri leader lei ha fatto la scelta con Sardini siete gli unici due leader che non si candidano alla fine ma io trovo che questo sia un modo per ferire ancora di più la nostra democrazia che è già sofferente perché se noi riduciamo quello che è un passaggio elettorale importante cioè chi mandare in Europa chi scegliere attraverso le preferenze e affidare questa scelta ai cittadini e poi invece creiamo un meccanismo ingannevole per cui ci sono dei leader che si candidano per cercare qualche punto in più io credo che contribuiamo ancora di più a rendere sofferente questa democrazia non mi meraviglierei che ci fosse un sussulto anche di dignità da parte dei cittadini e ci sia un rifiuto rispetto a questa modalità perché non ha senso dire facciamo un sondaggio Giorgia Meloni ha detto ma io mi candidavo perché così si fa un sondaggio sulla mia politica in Europa ma Giorgia Meloni innanzitutto ricordiamo lo sta già nel Consiglio Europeo come leader è lì che dovrebbe farsi valere quindi il fatto di candidarsi a capolista non ha assolutamente nessun senso i sondaggi non si fanno adesso i sondaggi si fanno a latere e se stiamo a questo io mi auguro che ci sia una grande risposta negativa da parte dei cittadini perché quello che sta facendo in Europa è assolutamente non lo stiamo vedendo l'Italia non è protagonista non è protagonista in nulla abbiamo accettato un patto sulla SIO sull'immigrazione che ci danneggia abbiamo accettato un pacco di stabilità che ci porta a tagliare sanità sul lavoro e tantissimi altri sui servizi quindi i risultati non si vedono se vuole il sondaggio spero che sia negativo lo dico da cittadino italiano prima che da leader politico le voglio chiedere visto che in queste ore si moltiplicano volevo chiedere questo perché è una notizia che è uscita poco fa in queste ore si moltiplicano le occupazioni delle università adesso sta intervenendo la polizia a Sciences Po a Parigi e a Milano notizia di pochi minuti fa è l'apertura del Corriere della Sera no al convegno su Israele alla statale perché la Digos dice il rischio è altissimo volevo un commento suo tra quello che accade negli Stati Uniti quello che accade in Europa e nelle università italiane Conte allora cerco di sintetizzare perché il discorso è molto complesso innanzitutto sono assolutamente contrario al fatto che ci siano censure per quanto riguarda accordi tra università centri di cultura di ricerca europei americani eccetera e dappertutto nel mondo con università e centri di cultura di Israele perché la cultura non deve mai trovare incontrare barriere e motivazioni politiche d'intralcio per quanto riguarda le manifestazioni pro-Israele mi sembra ovviamente siano del tutto legittime anche se mi dispiace quando si oscura il fatto che all'origine c'è stato comunque un 7 ottobre ci sono state delle atrocità di Hamas ma è chiaro che in questo momento è comprensibile la ferma condanna non di Israele ma dell'azione di questo governo Netanyahu che è assolutamente inaccettabile noi l'abbiamo denunciato in tutti i modi si deve assolutamente arrestare occorre un cessato il fuoco in questo momento incondizionato perché che continuino a morire tantissimi bambini donne e civili è inaccettabile per quanto riguarda poi le manifestazioni ovviamente non possiamo che auspicare che avvengano sempre nel segno della non violenza è chiaro che le università sono i luoghi in cui queste sensibilità si infiammano per prima ma l'importante è che si infiammino appunto nel segno della non violenza sgombrare un'università se ci sono occupazioni manifestazioni non violente è sempre un danno una ferita alla democrazia quindi mi pare di capire interessante una notizia se lei fosse oggi ancora il presidente del consiglio al suo ministro dell'interno è interessante questo che cosa direbbe di fronte a un'università occupata è importante che indicazioni darebbe al suo ministro dell'interno io se fossi avessi una responsabilità come autorità accademica in questo momento di una università o della mia università innanzitutto andrei a parlare agli studenti li incontrerei e cercheremo di affrontare anche un dibattito che è normale perché l'università è il luogo del dibattito delle idee eccetera inviderei gli studenti a non lasciare che ci siano manifestazioni di violenza perché quello danneggerebbe il sano dibattito e le sane proteste e sicuramente inviterei le forze dell'ordine a mantenersi fuori dall'università l'ultima cosa che le voglio chiedere è su Macron però Presidente Conte il Cremlino parla intanto sentiamo dietro teniamo pure la scena aperta su quello che accade lì Macron parla di siamo un mercato di lecce qui no no infatti intuivo ma mi piaceva visto che siamo in diretta mi piace come insegna il maestro Minoli far vivere quello che le accade intorno le dichiarazioni di Macron il Cremlino le giudica molto molto pericolose le voglio rileggere se i russi dovessero sfondare le linee del fronte se ci fosse una richiesta ucraina dovremmo legittimamente porci la domanda se inviare truppe è sconsiderato che valutazione dà del Presidente francese? Guardi il Presidente Macron ci ha lavorato a lungo insieme per tre anni a titolo ha dei difetti delle qualità una qualità che non è ipocrita in questo momento rispetto ai nostri governanti che ci stanno prendendo in giro non adottano un linguaggio di verità con l'opinione pubblica con i cittadini tanto più adesso che si sta andando a una campagna elettorale lui e non lo condivido affatto perché ritengo che il tutto sia un gravissimo errore sta dicendo guardate che se abbiamo scelto questa strategia militare abbiamo scelto come unica via questa escalation militare adesso siamo costretti a mandare anche le truppe perché mancano le truppe adesso quindi è coerente di tutto anche i missili a lunga e gittata è una follia Giorgia Meloni ma Giorgia Meloni Giorgia Meloni siccome adesso sta in campagna elettorale che cosa fa? prende in giro i cittadini scrive il suo nome detta Giorgia poi annuncia la mancetta ma addirittura una tantum però la rinvia a gennaio dell'anno prossimo ora ditemi se le persone tu parti dal presupposto che ci sono delle persone in difficoltà che la tua mancetta da 100 euro diventa necessaria peraltro una tantum dagli a subito perché la preannuncia oggi fra otto mesi la darai cos'è? aspetti? che ti votano prima? che ti votino? va bene allora quindi è un linguaggio ingannevole bisogna dire la verità si sta andando in quella direzione una direzione folle lo abbiamo detto da tempo l'unica via d'uscita è un negoziato più passa il tempo più l'irragionevole posizione dei nostri governanti si incancrenisce più deboli saremo purtroppo nel negoziato con la Russia però mi sembra chiaro quello che lei ha detto molto interessante Macron non è un ipocrita e quindi diciamo è anche coerente con la sua storia grazie a Conte voglio tornare a Lodovica Ciriello ovviamente continuiamo a seguire quello che accade a Lecce e poi andiamo in Piemonte da Salvini allora cominciamo a tirare un po' le fila di questo cominciamo a dire che io ho l'impressione vedendo questo palleggio della trattativa ho l'impressione che Hamas voglia cessare la guerra senza trattare e che Netanyahu voglio trattare senza cessare la guerra è una sintesi forte mi sembra mi sembra che questa sia la stessa questa sul fronte di quella guerra di quella guerra voglio chiedere però invece e poi andare all'università vogliamo rivedere quelle immagini in diretta da Sciences Po ora perché è una cosa che sta cominciando a rinfermare così è cominciato vediamo quelle immagini insieme tu che lo hai raccolato anche in più puntate nella storia siamo noi e non solo e queste sono immagini che ci arrivano in diretta dalla Francia ad esempio Sciences Po anche questa è una delle università dell'elite dove si forma la classe dirigente la Columbia University è uguale la Georgetown University è lo stesso che cosa sta accadendo? anche il Vietnam è partito la reazione al Vietnam è partita dalle università te lo ricorderai se parliamo di storia cioè l'università e i giovani sono quelli che hanno la sensibilità maggiore per il mondo che verrà per il mondo che deve venire e quindi sono quelli che reagiscono per primi estremizzando spesso ecco il perché della violenza e il perché della necessità di tentare di evitare la violenza se è possibile ma da un certo momento in poi è quasi un automatismo per cui è facile dire bisogna bisogna conservare le università come luogo di confronto intellettuale di contutto le università israeliane quelle americane quelle giappones vero d'accordo poi c'è quell'innesco di quella di quell'estremismo di quella violenza che deriva da un'esigenza di avere un mondo migliore perché poi la vera motivazione è quella nel 68 era uguale e porta a situazioni come queste a 9 in diretta l'assegnazione che ci porta le immagini da Parigi dentro Ciensepo e hai sentito però con me poco fa che cosa diceva Conti io gli ho chiesto un po' malizioso se lei fosse ancora presidente del consiglio e lui ha detto io la polizia non la adesso ci facciamo l'agenzia io la polizia negli atenei non la manderei però in realtà quello che stiamo vedendo in tutto il mondo adesso vediamo la Francia in diretta che cosa accade che ormai è ritornato a essere quello che è stato il simbolo storico per tanti anni perché però secondo te il tema del conflitto in Medio Oriente in qualche modo mobilita molto di più di quello russo-ucraino ad esempio perché è più facile da vedere la contrapposizione perché russo-ucraini parlano tutti russo e ucraino sono metà e metà sono un popolo non dico lo stesso popolo ma molto molto vicini fratelli o cugini di primo grado come minimo e quindi la cosa che ha mobilitato è l'invasione non il fatto che ci fosse un contrasto perché nella Crimea e le russi ce l'hanno già presa non c'è stato questa l'invasione è stato l'elemento che ha scatenato che cosa? Ha scatenato la consapevolezza dell'Occidente che non si poteva lasciare invadere un paese e lo stesso discorso diverso ma simile vale per Israele dove non si può lasciare passare il 6 ottobre ma il primo a non aver saputo giocare il 6 ottobre è stato Netanyahu l'abbiamo detto qui tante volte cioè io ancora oggi non ho visto un'immagine del 6 ottobre mi sarebbe piaciuto c'è qualche l'uno l'ha vista però non c'è una consapevolezza nel 7 ottobre bisognava creare un'emotività collettiva fortissima per un po' di tempo e puoi dire andiamo a liberare gli ostaggi l'ultima cosa che ti voglio chiedere ci riporta direttamente agli Stati Uniti perché anche lì ci sarà una anzi c'è già in corso una campagna elettorale infatti vedi che Biden Biden si deve barcamenare lo sentiamo un attimo questo Biden lo facciamo commentare a Minoli Biden sulle università perché per lui questo può diventare un grosso problema elettorale vai mandalo vorrei essere chiaro la protesta violenta non è protetta la protesta pacifica lo è è contro la legge quando si verifica la violenza il dissenso è essenziale per la democrazia ma questo non deve mai portare al disordine o alla negazione dei diritti degli altri affinché gli studenti possano terminare il semestre e gli studi universitari c'è il diritto di protestare ma non il diritto di provocare il caos ma chiariamo anche questo non dovrebbe esserci posto in alcun campus né in America per l'antisemitismo o le minacce di violenza contro gli studenti ebrei e allora questo è chiaramente una fronte di grande è una dichiarazione ineccepibile diciamo perfetta cosa vuol dire di diverso e di più di più democratico di così niente impossibile perché perché lì il problema è di nuovo un problema incendiario incendiario profondamente però credo che su questo in realtà la distanza tra Trump e Biden sia mica tanta mi sembra che la posizione di Trump sia una posizione abbastanza vicina a quella di assolutamente Trump è stato il primo a dire bisogna sgomberare subito gli Atenei perché non è possibile quindi non credo che sarà un oggetto della campagna elettorale nella contrapposizione è più un problema per l'elettorato come dicevi tu esattamente il problema di elettorato di Biden allora grazie a Giovanni Minoli altri ospiti stanno arrivando vedo già Susanna Ceccardi candidata con la Lega per il rinnovo per tornare all'Europarlamento buongiorno frato gli anni alleanza Verdi e Sinistra buongiorno saluto e accompagno Minoli all'uscita c'è sempre risolviamo Roberto Arditti già pronto e c'è sempre il buon Vittorio Sgarbi che ormai da mezz'ora soggiorna nei nostri studi ma ci fa molto piacere non c'è la tassa di affitto sulle sedie del dottor Cario aspetta il pranzo aspetta il pranzo aspettiamo qua che vogliamo a favore di camera guarda stai offuscando la camera eccoci qua eccoci qua ciao Vittorio allora rimani ancora qualche minuto hai da fare qualcosa oggi devo andare a lavorare va bene però mi fa piacere che sei stato qui durante tutta la conversazione pubblicità ci vediamo tra poco grazie allora bene sono le 12 e 29 Vittorio Sgarbi ancora qui Beris ho occupato lo spazio come gli studenti no no tu per me sei lo studente tu sei Israele sì no io sono da Vittanella fuori da questo studio fuori allora no è rimasto qui fa molto piacere ha seguito la nostra dibattita possiamo salutare Ceccardi che è candidata con la Lega si ricandida come seconda in lista al centro dopo il generalissimo Vannacci e buongiorno buongiorno ciao Vittorio chiedi a lei se voterebbe Vannacci c'è il microfono poi chiedigli voterà se stessa immagino può dare tre preferenze io lo voterò voterò Vannacci-Ceccardi anzi Ceccardi-Vannacci tu dici che la Lega è prima le donne no Zaia ha detto una cosa diversa va bene quindi abbiamo trovato una persona c'è democrazia c'è democrazia fratoianni lo saluti anche fratoianni buongiorno fratoianni buongiorno segretario di sinistra italiana appunto perché l'abbiamo messa insieme perché le due candidature su cui si discute di più oltre alla tua sono quelle di Ilaria Salis no e il generale Vannacci anche la Saiz è una figura interessante però no non solo interessante ma se avessi avuto possibilità di incidere su un partito di cui sono stato candidato che è Forza Italia avrei detto che era perfetto candidare la Salis per Forza Italia per Forza Italia carico pendente tu dici siccome in Forza Italia c'erano tante persone ma non per fare le tue soli osservazioni maliziose la battaglia sulla legalità e sul rispetto di una persona che ha gli arresti cautelari quindi un arresto preventivo una battaglia garantista una battaglia che andava fatta anche nel centro-destra quindi ha fatto benissimo il gruppo dei Verdi e Sinistra Italiana a candidarla c'è anche l'endorsement non la voterai però immagino non lo so perché sarebbe l'altra notizia dice Sgarmi due punti no perché non è candidata nel collegio in cui posso votare se no l'avresti votata io l'avrei votata volentieri no se dici sul serio sto dicendo se io avessi votato con Tagliani avrei detto tu cosa devi candidare devi candidare la Salis poi forse lei non l'accettava perché la storia di Berlusconi adesso te lo faccio dire vabbè salutare Arditti direttore di Torale di Formiche.net e Sandro Iacometti grande firma firma di Libro poi ti salutiamo perché immagino hai un sacco di impegni anche se sei qui da un'ora quindi beh cosa c'eri meglio che essere da te no no per carità vuol dire che hai un'agenda non così piena pensa capra scrivi Sgarbi grazie Vittorio Sgarbi detto capra uno potrebbe però sì poteva anche essere questo poteva anche essere questo avresti fatto una polemica no 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 figurati va bene allora grazie Vittorio ci vediamo domani ci vediamo domani ci torno quando vuoi tu ciao ripartiamo da Vannacci e Salis due candidature simboliche fai pure con comodo siamo solo in diretta fermo lì a ascoltarmi salutare andiamo subito a vedere con la nostra oggi abbiamo sentito anche Matteo Salvini pochi secondi fa ma risentiamo che cosa ha detto Salvini su Vannacci ma poi fatemi dire se a sinistra candidano una persona che è detenuta in un carcere all'estero con accuse pesantissime e fanno bene a farlo perché poi saranno gli italiani a scegliere noi non possiamo metterne nelle nostre liste un generale che ha difeso la vita dei suoi uomini e l'onore dell'Italia in Iraq in Afghanistan e in tanti paesi al mondo quindi viva la libertà viva la democrazia e starà agli italiani scegliere se preferiscono dare il voto a Ilaria Salis o a Roberto Vannacci Allora fra tuoi anni alla fine diciamo a creare anche questa polarizzazione è proprio Salvini diciamo nel dire lo sconto tra Vannacci e Salis che ci sarà in uno dei cinque collegi tra proprio due visioni all'opposto antitetiche due diverse visioni del mondo ma non lo so se sono due visioni del mondo antitetiche mi pare che Salvini sia in grande difficoltà si sentiva anche diciamo quasi un po' fatica anche a respirare mentre faceva questo sproloquio sulla polarizzazione Vannacci-Salis evidentemente la difficoltà che sta terremotando il suo partito di fronte a una candidatura aliena perfino a quel mondo che è lontanissimo dal mio quello della Lega ma che ha avuto diciamo un sussulto di fronte alle dichiarazioni per me incredibili o meglio inaccettabili di un personaggio come Vannacci non c'è alcuna polarizzazione tantomeno quella delirante che immaginava un confronto tra i due anche perché è perfino offensivo evocare un confronto con una persona che non può farsi neanche la foto per i manifesti della campagna elettorale perché da 15 mesi è precipitata nel buco nero di una carcerazione preventiva che lede non solo i suoi diritti umani fondamentali ma anche il diritto alla difesa del resto Ilaria lo ha detto quando dopo aver accettato la candidatura ha potuto comunicando col padre al telefono trasmettere alcuni dei suoi pensieri perché di questo parliamo non può neanche scrivere lettere ci vuole 20 giorni perché una sua lettera arrivi deve comunicare 10 minuti al giorno 70 minuti alla settimana al telefono col papà e in questo modo fa arrivare quello che pensa ha detto io non voglio fuggire dal processo voglio un processo giusto dove i diritti secondo la nostra cultura giuridica siano garantiti del resto un coimputato nella sua vicenda con le stesse accuse da un tribunale italiano il giorno in cui a lei venivano negati i domiciliari in Ungheria dopo 15 mesi lo ripeto 15 mesi di carcerazione preventiva è stato non solo rimesso in libertà ma è stata negata l'estradizione dai nostri giudici sulla base di due argomenti fondamentali uno che lì non erano garantiti i diritti umani fondamentali nei diritti fondamentali della difesa punto questa è la verità e noi abbiamo scelto un atto concreto dopo molti mesi in cui il silenzio da più parti è evocato si dice sempre quando ci sono queste cose serve silenzio bisogna far lavorare la diplomazia 13 mesi di silenzio non hanno prodotto granché e noi d'accordo con Ilaria e con la famiglia abbiamo scelto di fare una cosa concreta speriamo anzi siamo convinti che il risultato della nostra lista sarà un risultato importante e in questo modo Ilaria avrà la possibilità di fuoriuscire da questo buco nero ma finisco subito non è però soltanto una vicenda che riguarda Ilaria è una vicenda che riguarda anche ora ci torniamo subito perché tanto è solo un primo assaggio perché prometto che ci torniamo perché Cercardi poi sentiamo i due giornalisti ma Cercardi lei anche sta facendo una campagna elettorale dove usa quello strumento che in America è molto in voga della pubblicità cosiddetta comparativa ricorda molto anche quando ti ricordi Arditti il famoso manifesto con Nixon compreresti mai una macchina usata da quest'uomo e la pubblicità comparativa appare addirittura lei ha scelto il bianco e nero per la Salis e invece i colori per lei anche questo è molto discusso su questa scelta cromatica diciamo che lei ha fatto Cercardi è una scelta ben precisa io mi sento agli antipodi rispetto all'aria Salis intanto perché faccio politica da vent'anni e non mi è mai capitato di sfondare un posto di blocco essere denunciata per il traggio pubblico ufficiale o andare in altri paesi europei a spaccare la testa agli avversari politici che non la pensano come me o addirittura a cittadini a cittadini innocenti che niente che entravano con le manifestazioni di destra ma questi sono garantisti a targhe alterne Parenzo voi siete garantisti soltanto con Ilaria Salis e non con i 2.600 2.500 la Salis ha detto ero lì ma non ho partecipato allo scopo lei si sbaglia Cercardi noi sono garantista con tutti non so cosa ha fatto lei per gli altri 2.600 noi abbiamo fatto una cosa concreta io Kiko Forti sono andata a trovarlo io ho ritenuto come ma mi lasci parlare perché lei ha parlato mezz'ora di Ilaria Salis e ha fatto va bene un atto una alla volta una alla volta la geografia di Ilaria Salis la geografia se non lo sai è la vita dei santi è la vita dei santi avete santificato questa donna ancora prima di aspettare il giudizio secondo voi soltanto la magistratura italiana è superiore inattaccabile le magistrature delle altre paesi che sono paesi liberi e democratici tant'è che sono in Europa come lo siamo noi no lì si violano i diritti umani guardi io ho visitato tante carceri in Italia e anche all'estero e le posso dire che le condizioni che hanno mostrato delle carceri ungheresi non sono peggiori di Sollicciano non sono peggiori di Dumbosco a Pisa non sono peggiori delle carceri italiane e forse di questo ci dovremmo occupare di più soprattutto della polizia penitenziaria che è costretta a lavorare in condizioni atroci quindi dice che l'Ungheria è uguale a noi da questo punto di vista sono proprio nella polizia penitenziaria io vorrei fare un discorso di almeno 5 minuti come ha fatto Fratoiano da solo un attimo tutti hanno lo stesso tempo facciamo così vado in pubblicità e riparlate tutti con calma le promette devo ancora parlare Arditti e Jacometti e anche pubblicità e riprendo non si preoccupi che parlerà assolutamente tra poco Allora Arditti Giacometti poi torno dalla Ceccardi ovviamente che campagna elettorale è con questi candidati abbiamo visto anche la scelta della Ceccardi che ce lo stava raccontando comunque di identificare marcare una vera differenza Beh secondo me e la discussione di oggi è utile allo scopo Vannacci e Salis sono forse i due candidati per molti versi più emblematici di questa campagna elettorale e sono espressione però di due Italie lontanissime tra loro Salis è la candidatura di una donna che si impegna nella contestazione che si porta a casa le condanne che ha per i gesti compiuti in Italia e che va anche all'estero a portare questa battaglia dura di contestazione Vannacci è l'emblema di un'Italia agli antipodi di cui la sua divisa è rappresentazione anche grafica se così vogliamo dire ma tutto il mondo di Vannacci è un mondo a distanza siderale da quello della Salis e queste due Italie ci sono nella ovviamente tutti e due sono una versione se vogliamo un po' estrema di queste due Italie però rappresentano in modo molto chiaro un confronto di due mondi una mia preoccupazione o comunque una mia riflessione conclusiva è attenzione però e questo è un gioco che nella nostra democrazia va considerato sono due mondi che da molto tempo a questa parte non hanno più molto da dirsi l'uno con l'altro cioè i canali di comunicazione tra chi la pensa in modo molto diverso si sono quasi chiusi definitivamente e questo deve interrogarci sul funzionamento del nostro sistema perché fino a qualche decennio fa le cose non stavano così democristiani e comunisti si sono parlati a lungo questa riflessione qui ci riporta in fondo anche allo scontro fortissimo che c'è negli Stati Uniti mi viene in mente tra democratici e repubblicani dove sono due mondi completamente all'opposto da una parte Trump l'uomo di Capitol Hill addirittura e dall'altra Biden in piccolo è una chiave di lettura interessante quella quella di Arditti no? sì e queste due candidature ne sono anche il manifesto elettorale la scelta per carità siccome si va con le preferenze quindi la Ceccardi dice io uso la mia storia e la contrappongo a quella a quella della Salis io vorrei fare due domande una a Ceccardi e una a Fratoianni a Fratoianni volevo chiedere se nel caso dovessero essere confermate le accuse nei confronti della Salis dovesse essere condannata se la cacceranno da Alleanza Verdi Sinistra come hanno fatto con Sumaoro anzi nei confronti di Sumaoro non hanno espresso questa grande forma di garantismo perché l'hanno allontanato dal movimento senza non è indagato Sumaoro appunto non aveva nessuna accusa e l'hanno cacciato da AWS senza che fosse neanche accusato quindi non c'è non c'è stato nei confronti di Sumaoro questo grande garantismo mi chiedevo se poi c'è il rischio che nel momento in cui la situazione processuale dovesse peggiorare della Salis speriamo di no per carità però poi come si comporterà il partito perché adesso è una battaglia garantista risposta a Flesci Fratoianni poi fai la domanda alla Ceccardi che così riprendo da lei risposta a Flesci Fratoianni poi Ceccardi vedremo quello che succederà nel processo sperando che questo processo si possa svolgere in condizioni di tutela del diritto alla difesa cosa che non sta avvenendo in Ungheria di fronte a un'accusa che il nostro paese sarebbe liquidata anche in caso di condanna a pochi mesi no no ma rispondo alla domanda rispondo alla domanda perché stiamo parlando di un'accusa che è priva di denuncia da parte della presunta vittima che riguarda il caso di 5 giorni di prognosi cioè una cosa che non esiste non esiste dal punto di vista penale della proporzionalità della pena ridicola che è stata richiesta lo sappiamo però se avessi spaccato la testa ai nazisti no ma siccome non è questa anche in questo caso l'accusa che si rivolge è la Ria Salis perché non stiamo parlando di questo io non caccerei nessuno dal partito anche perché in questo caso stiamo parlando di una candidatura indipendente quindi non di una iscritta al nostro partito secondo sono curioso però faccio io una domanda in questo caso Giacometti perché sono curioso di sapere perché questa domanda non viene rivolta alle decine di candidature della destra italiana che sono in campo di persone che sono già condannate già condannate ricandidate perché non hanno il vostro stesso moralismo perché non fanno le vostre campagne sulla legalità no 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 quale moralismo Giacometti sono curioso perché è curioso perché non lo rivolge alla Lega a Fratelli d'Italia a Forza Italia Fratelli d'Italia ricandida un parlamentare europeo che ha patteggiato è stato condannato perché non fanno continui sermoni sulla legalità guardi che io non ho fatto nessun sermone zero sermone al contrario di altri ma perché Sumauro l'avete allontanato che non c'era stata nessuna accusa Sumauro è uscito dal gruppo è andato nel gruppo visto ha fatto no 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 è uscito da solo no no questi sono i fai tu Ceccardi no però a Ceccardi dovevo chiedere una cosa fai la domanda a Ceccardi fai la domanda a Ceccardi dovevo chiedere una cosa siccome io ritengo che la sinistra stia sbagliando nel accanirsi contro Vannacci dandogli grandissima visibilità e rendendolo un po' l'idolo di quel mondo a cui lui appartiene di quel suo elettorato per ora elettorato perché diciamo gli comprano i libri poi probabilmente diventerà un elettorato mi chiedo se sia conveniente e io credo che per la sinistra sia un boomerang cioè fare la campagna contro Vannacci mi chiedo se sia opportuno o diciamo se possa essere efficace fare questa campagna contro la Salis dando comunque visibilità alla Salis e accrescendo la sua popolarità hai fatto una domanda sulla sinistra alla Ceccardi sto dicendo che forse ha sbagliato sto dicendo che forse ha sbagliato a fare questa cioè secondo me la campagna contro sulla demonizzazione dell'avversario è sempre perdente quindi sbaglia la Ceccardi a fare la demonizzazione sbaglia la Ceccardi cioè secondo me non porta risultati diciamo da punto di vista elettorato è una demonizzazione vai vai Ceccardi ai posteri l'ardua sentenza diciamo se ho sbagliato la campagna lo decideranno i cittadini però dico che io nella mia storia politica io chiaramente ho fatto politica in Toscana ho vinto dopo 70 anni in comune da sempre amministrato dalla sinistra e mi è sempre piaciuto evidenziare le contraddizioni della sinistra loro sono molto garantisti con Ilaria Salis non lo sono per esempio dei tanti cittadini italiani che hanno passato ipopei giudiziari accusati di legittima difesa per loro quelli che si difendono in casa propria dovrebbero finire al gabbio subito immediatamente e chi va a trovarli chi sostiene anche le ragioni della legittima difesa sbaglia chi invece ha pluri denunce addirittura va all'estero a portare in nome dell'Italia spaccando la testa alla gente o accompagnando non ha spaccato però ceccardi lei ha l'immunità io non ce l'ho non ha spaccato la testa deve essere è l'accusa quella siamo tutti garantisti ma il garantismo non significa che sia innocente che è finito maluccio essere garantisti non bisogna già dichiararla innocente prima del processo e questo è l'errore della sinistra quindi però io vorrei concludere un ragionamento no però solo ceccardi per dirle che onde evitare querele inutili io le dico che la Salis si è sempre proclamata innocente per quel tipo di accusi e glielo auguro quindi non diciamo perché quello che hanno fatto i suoi amici perché qualcuno la testa io le ho viste le foto è altra cosa qualcuno la testa l'aggressione c'è stata ma lei dice di non aver partecipato io mi auguro che sia innocente e che il video che è al vaglio degli inquirenti e anche diciamo all'accusa che i magistrati ungheresi dicono che ci sia anche lei in quel video o comunque l'accusa ungheresi dice che ci sia anche il video per chi dice che hai un falso però questo video non l'ha mostrato quasi nessuno diciamo in Italia si parla soltanto della Salis e le si trova un salva condotto ancora prima che faccia il processo quindi il garantismo della sinistra è dichiararla innocente ancora prima che faccia il processo eccolo qua in queste immagini non risulta esserci lei questo diciamo da un punto di vista anche in queste immagini chi lo dice che non c'è la difesa dice lei no no io la difesa ha sempre sostenuto lo dice la difesa della Salis della Salis si dice che in queste immagini lei non è stata identificata e non risulta da queste immagini quindi questo diventerà questo comunque appunto diventerà una questione il tema è capire il tema è capire se l'Ungheria il tema è capire Ceccardi se l'Ungheria se l'Ungheria garantisce quegli standard che in Italia ad esempio sono garantiti di un giusto processo questo è l'altro aspetto i 2600 italiani che sono anche reclusi in paesi del terzo mondo a loro sono garantiti Arditti non ha candidato quelle 2600 persone negli anni un secondo Arditti vediamo anche il libro di Arditti che uscirà tra poco e che si occupa anche di questi temi in modo particolare di una consapevolezza che io vedo molto fragile dalle nostre parti ed è importante parlarne durante una campagna elettorale come quella dell'europea eccolo qua scusa a questo punto siccome tra un mese esce esce tra un mese ma rompere l'assedio l'Occidente si salva solo se capisce le vere sfide del nostro tempo perché noi non stiamo comprendendo quello che accade intorno a noi o lo stiamo comprendendo molto limitatamente e non ci rendiamo conto delle forze che cercheranno di piegare la resistenza delle nostre democrazie forze che sono in atto molto più di quello che noi riusciamo a percepire nella nostra consapevolezza individuale voglio dire e in realtà faremo bene a parlarne molto di più e lo vediamo dalle università alle quali hai dedicato uno spazio di dibattito prima perché quello che accade nelle università dovremmo interrogarci per esempio di per quale motivo accade nelle nostre università e questo atteggiamento duro nei confronti di Israele non c'è in quasi nessuna parte del mondo arabo e musulmano è vero questa è perché ora uno potrebbe dire perché in quei paesi le manifestazioni vengono impedite è vero sino ad un certo punto è vero che in molte classi dirigenti del mondo arabo ci si sta rendendo conto che un certo assestamento della tragedia cominciata il 7 di ottobre e continuata a Gaza richiede anche l'uso della forza l'occidente sta perdendo la consapevolezza della necessità di utilizzare la forza per risolvere delle situazioni il pericolo che corriamo con la perdita di questa consapevolezza è un pericolo di cancellazione di una civiltà della storia assolutamente se noi non comprendiamo questo in questo momento storico commettiamo verso le generazioni future un delitto di dimensioni monumentali Ceccardi e Fratoianni questa questione ci riporta un flash per voi un commento su quello che accade nelle università dagli Stati Uniti alla Francia oggi abbiamo visto Ciensepo a Parigi e la notizia di poco fa che a Milano la statale di Milano vieta un no al convegno all'apertura del Corriere della Sera no al convegno su Israele alla statale la Digos parla di rischio altissimo come ci si deve comportare riparto da lei Ceccardi e chiudo con Fratoianni con le università occupate Biden in America ad esempio che è un partito democratico ha fatto una cosa di destra ha fatto anche per motivi elettorali anche lui non lo so quanto gli convenga per motivi elettorali visto che la sua base comunque però ha deciso di far sgomberare gli Atenei negli Stati Uniti Ceccardi io credo che le università da sempre debbano essere ponti di cultura e anche di pace la scuola l'istruzione la cultura deve essere un ponte tra i popoli non una chiusura occupare le università a senso unico è un atto violento e anche devo dire alcune consigli alcune università consigli di facoltà hanno deliberato di interrompere i rapporti con le università israeliane che è una follia sul piano culturale e anche formativo perché sono proprio i ponti e la cultura e la ricerca che aiutano anche nel processo di pace e tra l'altro le università israeliane soprattutto sul campo scientifico e medico sono tra i primi posti nel mondo quindi io credo ci perdano anche sul piano proprio tecnico e scientifico le università italiane a interrompere i rapporti dobbiamo invertire la rotta se vogliamo la pace dobbiamo ricominciare veramente a parlare e dalle scuole e dalle università per prime fratoianni le aggiungo che per quanto riguarda il convegno alla statale ora lo vediamo su Repubblica sul Corriere qui parliamo dell'Italia Milano no al convegno su Israele alla statale la Digos parla di rischio altissimo è uscita poco fa una dichiarazione del rettore della statale che dice si può fare online il convegno su Israele previsto per il prossimo 7 maggio all'università statale di Milano organizzato dall'associazione Italia Israele di Savona potrebbe svolgersi online anche per garantire infatti il regolare di cui parlava prima Roberto fatto gli anni ma io sono perché ogni convegno si possa svolgere perché non si interrompa mai la collaborazione culturale altra questione riguarda i progetti di cooperazione di ricerca in ambito militare ma è una questione diversa molto diversa alla cooperazione culturale sono nettamente contrario allo sgombero delle università alla polizia negli atenei le occupazioni delle università esistono da sempre sono forme di mobilitazione degli studenti la trovo una scelta grave sbagliata in America come in Italia se dovesse avvenire sono convinto che si debba essere invece spietati nel contrasto ad ogni forma rigurgito anche flebile segnale di antisemitismo non penso in nessun modo che criticare anche in modo durissimo il governo di Benjamin Netanyahu l'esercito israeliano per lo sterminio dei civili in corso a Gaza e per la politica scellerata che alimenta l'insicurezza del popolo israeliano del suo diritto a vivere in pace e in sicurezza in quell'area del mondo significhi essere antisemiti questo penso in modo molto netto e molto chiaro però le università lei dice non vanno siccome abbiamo visto stamattina neanche per sbaglio non vanno sgomberate neanche per sbaglio però gli studenti possono fare quello che vogliono ma perché ma scusa ma se si vuole fare una manifestazione all'interno della quale contestare duramente le scelte per esempio del governo israeliano è così impossibile riunirsi in una sala e parlarne con un microfono in mano no è possibilissimo è una cosa stratosferica è possibilissimo come è possibile occupare le università esattamente come è possibile fare uno sciopo occupare è un atto illegale non va bene occupare una fabbrica occupare non è bello non è bello occupare una fabbrica è un atto illegale sono scelte forme di lotta no sono forme di lotta come scelgono i lavoratori come hanno sempre scelto nella storia come voi avete sempre difeso l'illegalità e spesso no no guardi occupare le case occupare le università occupare come insegnava Don Milani come insegnava Don Milani ci sono forme e momenti in cui esiste una differenza tra la legalità formale la giustizia le forme di lotta lo decidete voi se nel nostro paese i lavoratori i contadini anche picchiare i nazisti può andar bene in alcune realtà non avremmo non dica bestialità c'è chi lo dice c'è chi lo dice non dica bestialità c'è chi lo dice io capisco che fa fatica c'è chi lo dice ci sono dei professori che lo dicono più complessi della propaganda però ci sono dei professori che lo dicono forse riusciamo a capire nel nostro paese nel suo paese nel mio paese se non ci fossero state forme di lotta allora considerate illegali oggi non avremmo diritti fondamentali anche suoi di scioperare per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle lavoratrici quindi anche se è una deriva siamo attenti a richiamare gli anni 70 gli anni di piombo frato Ianni stiamo molto attenti solo per chiarire il punto quindi secondo lei non parliamo dell'Italia o della Francia ma secondo lei frato Ianni alla Columbia University ad esempio abbiamo visto le immagini di qualche giorno fa e lo abbiamo raccontato in diretta Los Angeles ieri ieri no ieri era notte lì ed era giorno qua qui l'America Biden ha fatto male qui a fare sgomberare questi atenei sì io penso di sì qualunque manifestazione io penso che l'intervento io penso che l'intervento della polizia dentro l'università sia sempre un errore sì lo penso anche se c'è della violenza ok a meno che non ci sia qualcuno che sta che sta minacciando la vita la sicurezza fisica degli altri e non era quello il caso almeno dalle immagini che abbiamo visto la mia opinione è che qualunque manifestazione io non ero lì e lei non era lì no 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 voglio solo dire una cosa velocissima ci mancherebbe no ma ci mancherebbe io rimango a quello che abbiamo raccontato io sto guardando le immagini della polizia in assento antisommossa che entra dentro l'università di fronte a studenti disarmati inermi il mio parere è che è sbagliato questo è Los Angeles io commentavo il titolo del Corriere il titolo del Corriere di oggi a Teneo in rivolta stop di Biden una parola e quindi la decisione sono una parola per dire però mi faccio dire una cosa in chiusura un attimo sì 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 sicuro qualunque manifestazione si può svolgere anche in università abbiamo fatto tutti l'università e abbiamo fatto i rappresentanti degli studenti e attività politica in università come l'ha fatto fra tre anni l'ho fatta anch'io qualunque manifestazione si può svolgere in università chiedendo alle forze dell'ordine se presenti di accomodarsi in fondo alla sala e di assistere al dibattito che si svolge anche come forma di garanzia verso quelli che stanno svolgendo quel dibattito non è vero che fare una manifestazione significa considerare le persone donne e uomini delle forze dell'ordine come degli avversari non è così c'è cardi gli alleati non lo penso nemmeno io guardi una alla volta un secondo solo c'è cardi io ho cominciato la mia attività politica all'università e proprio lì ho conosciuto diciamo la lotta dura perché c'erano i collettivi studenteschi di sinistra che volevano impedirmi di presentarmi alle elezioni studentesche e da lì diciamo mi sono appassionata alla politica perché quando mi si vuole impedire di parlare o di manifestare un concetto e un'idea allora è lì che vado più avanti e li devo ringraziare quei collettivi perché oggi non sarei qui senza la loro arroganza e la loro violenza io ho subito anche rovesciamenti di banchetti all'università di Pisa ho subito aggressioni fisiche e se faccio politica in tutti questi anni è proprio perché voglio vorrei che il nostro paese tornasse veramente ad essere un po' più democratico diventasse un po' più democratico capendo bene che la democrazia non sta soltanto a sinistra e queste ieri sera ero a Livorno e molti militanti sono dovuti tornare indietro perché c'erano i centri sociali le manifestazioni della sinistra contro la presentazione di un libro il libro di Salvini e hanno minacciato anche fisicamente alcune persone però non diciamo genericamente della sinistra perché se no però Ciccardi l'abbiamo anche raccontato e lo abbiamo detto non diciamo però genericamente della sinistra perché se no sembra che siano tutti dei violenti ci sono delle frange sicuramente violente l'abbiamo anche raccontato allora grazie agli ospiti abbiamo una brevissima pausa e poi come ogni venerdì Valerio Rossi e Bertini vi do una notizia prima della pubblicità secondo il Time of Israel Netanyahu si ricandiderà come premier alle prossime alle prossime elezioni e avremo modo poi di commentare anche nelle prossime ore pubblicità tra poco allora 13.11 e come ogni venerdì lo spazio della scienza con Valerio Rossi Albertini fisico e grande divulgatore scientifico oggi parliamo del carbone che non è quello della Befana no non per i bambini cattivi parliamo del carbone perché ne abbiamo discusso qualche giorno fa e c'è stato proprio a conclusione del G7 per l'ambiente possiamo dire dei ministri dell'ambiente un impegno il solenne impegno speriamo che sia così a parole speriamo che poi si trasformi di uscita progressiva di uscita progressiva dal carbone dobbiamo specificare che l'Italia già di fatto è quasi fuori del carbone perché non si costruiscono più centrali termoelettriche a carbone e siamo resti anche ad attivare quelle che attualmente abbiamo ma si contano sulle dita di una mano è stato necessario quando è venuta meno la fornitura l'approvvigionamento di gas in russo allora io volevo spiegare e però premettiamo agli spettatori che siccome ci sarebbero state delle fiamme facciamo una cosa ibrida io imposto la dimostrazione qui sul tavolo e poi partiamo invece con un video che è quello là è già presente che spiega qual è il senso perché il carbone perché le fiamme non possiamo farle in studio per motivi tecnici perfetto e lo vedete già lì sul monitor che è questa stessa immagine spiego quello che poi verrà mostrato lì vedete all'interno di questo barattolo ci sono due piccole candele e un contenitore il contenitore adesso è vuoto in quel caso invece era pieno in che cosa consiste questo esperimento nel far capire che il carbone ha un duplice effetto un duplice impatto il primo è di produrre anidride carbonica perché la combustione di tutte le sostanze organiche produce anidride carbonica e l'anidride carbonica infatti qual è la dimostrazione che l'ossigeno che è dentro il barattolo si esaurisce rapidamente possiamo partire io accendo le candele ecco qui vai vai parlaci pure come posso indietta accendo tutte e due le candele con un po' di fatica perché erano sul fondo del barattolo e una volta acceso queste candele io chiuderò il barattolo e la candela esaurirà la scorta di ossigeno che è all'interno del barattolo senti però la musica che ti hanno messo sotto adesso la fiamma naturalmente è viva ma io metto questo coperchio per ostruire per soffocare la fiamma in pochi secondi queste fiamme esauriscono dicevo l'ossigeno che è all'interno e lo sostituiscono con anidride carbonica e guardate una fiamma infatti si spegne inesorabilmente ma guardate l'altra fiamma che cosa ho fatto ho iniettato un liquido reagente all'interno di quel barattolo che conteneva una sostanza che produce ossigeno e guardate la fiamma la fiamma continua si sarebbe dovuta spegnere esattamente come l'altra candela perché gli ho somministrato ossigeno ecco questo qui è un concetto molto importante allora è chiaro che noi dobbiamo dismettere il carbone ma è altrettanto chiaro che alcuni altri materiali che come ad esempio i termovalorizzatori gli ex inceneritori hanno dei problemi che sono analoghi a quelli del carbone perché producono sia anidride carbonica sia un particolato sottile che è tutt'altro che benefico e qua veniamo alla seconda dimostrazione possiamo partire qui c'è una candelina io metto un vetrino sopra la candelina e come ci si aspetta il vetrino si annerisce ecco questa è la traccia distintiva delle sostanze organiche eccolo qua perché la cera una composizione chimica non molto dissimile da quella del carbone e quindi questo è il risultato che se bruciamo il carbone o la cera si annerisce c'è del nero fumo ora vediamo invece che questa fiamma che è prodotta dal gas investe il vetrino nella stessa maniera ma il vetrino è limpido quindi che cosa possiamo dedurre da questa piccola dimostrazione che da una parte il carbone e in generale tutti quanti i combustibili fossili ma il carbone in particolare produce non solo l'anidride carbonica che è il principale gas che induce i cambiamenti climatici ma anche delle sostanze che sono nocive un particolato sottile che deve essere filtrato e che rende quindi una centrale a carbone non particolarmente idonea per gli standard che abbiamo di qualità dell'aria e invece il gas quello che ho mostrato prima produce sempre anidride carbonica ma riduce di gran lunga l'immissione delle particelle sottili che sono quelle di cui abbiamo tanto parlato e che possono indurre anche malattie respiratorie scusate per far vedere al pubblico ora stiamo rivedendo il filmato in cui tu stai annerendo ma fuori di metafora questa cosa che si è appunto il vetrino che si annerisce causa fiamma fuori di metafora potremmo dire che è quello che ci rischiamo di inoculare di respirare noi assolutamente non in questo caso possiamo generalizzare perché il discorso tutti quanti i tubi di scappamento delle auto a combustione interna hanno questa stessa caratteristica cioè che emettono particolato sottile poco particolato sottile precisiamo perché non è carbone ma è un derivato del petrolio la benzina benzina verde quindi quel nero sul vetrino è quel nero che potremmo trovare nei nostri polmoni è quello che troviamo in giro che ti posso dire sul balcone di casa se per un mese non piove e passiamo un dito c'è quello stesso particolato c'è quel carbonioso che io ovviamente qua è molto più intenso l'effetto però è chiaro mentre invece se vediamo se rivediamo con il vetrino stesso con il medesimo vetrino una fiamma a gas vedete che ha un colore diverso è molto meno brillante ecco io la indirizzo sulla superficie del vetrino ma non produco nero fumo benissimo in realtà ne produco di meno allora pubblicità e poi dopo la velocità termocamera quindi altro strumentino termocamera per vedere una cosa particolare pubblicità non perdetevi alla termocamera 13 e 24 in chiusura Valerio Rossi Albertini l'ultima cosa che ci vuoi far vedere l'ultima cosa che vi voglio far vedere è che il calore naturalmente o l'energia elettrica si può produrre in maniera alternativa e io qui ho proprio un riscaldatore tipico che consente di fare queste cose guardate inquadro il riscaldatore qui questo è il mio dito guardate che cosa succede sembra che non ci sia niente se l'inquadratura è quella normale il riscaldatore sembra non fare nulla ma in realtà sta cominciando a brillare come una lampadina questa è la testimonianza che ci sono dei metodi alternativi di produzione del calore e dal calore l'energia elettrica che dovremo esplorare nel prossimo futuro proprio per finalmente affrancarci dall'uso dei combustibili fossili grazie a Valerio Rossi Albertini noi chiudiamo con la notizia che in questo momento è l'apertura di tutti i più importanti quotidiani italiani ma noi ve ne abbiamo già dato conto Cremlino le parole di Macron e Cameron sono molto pericolose si rischia dice il Cremlino un'escalation diretta con l'Europa linea al Tg la 7 buon weekend ci rivediamo lunedì grazie grazie a tutti grazie a tutti